Musica Buonasera, buonasera, ben ritrovati anche questa sera con noi a Linea d'Ombra. Ciao Jacopo. Buonasera Adriana, buonasera a tutti. Buonasera, ben trovato Marco Fumagalli, il Movimento 5 Stelle. Buonasera a tutti voi, grazie per l'invito. Buonasera Nella Comelli di Sinistra Italiana. Buonasera a tutti e tutte. E buonasera a Samuele Piscina della Lega. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, sono contenta che in questa prima parte c'è un esponente della Lega, perché partiamo, eccolo qua, perché l'argomento da cui vorrei partire è quello, come al solito si continua a parlare di case green, perché l'Europa, sapete, preme perché cambiamo le nostre abitazioni, i nostri palazzi, con sistemi che tutelino di più l'ambiente, la scadenza si avvicina sempre di più, vengono fatte anche le stime di quanto costerà trasformare le nostre case in case più green. E dall'altra c'è la notizia di un possibile condono o sanatoria, adesso ci spiegherà meglio Piscina, che arriva proprio dal Ministro Salvini per le abitazioni. Una sorta di condono o sanatoria di dizia, adesso cerchiamo di capire meglio, quindi da una parte l'Europa chiede case green, dall'altra arriva la notizia di questo possibile condono o sanatoria. Io ho preso questo cartello dal Tg.com24, ve lo faccio vedere, che ci spiega la differenza tra un condono e una sanatoria. Intanto per capire, il condono consente di regolarizzare un intervento edilizio per cui non solo non si dispone del titolo abitativo, ma che non poteva essere realizzato. Cioè, io faccio una cosa, un abuso, faccio una cosa che la legge mi impedisce di fare. Il condono vuol dire che arriva un'altra legge che mi dice, va bene, condonato, a questo punto non sei più irregolare. La sanatoria invece è meno grave, perché permette di regolarizzare un intervento edilizio che poteva essere realizzato, ma per cui non si disponeva di un titolo abilitativo. Cioè, diciamo che c'era un vuoto normativo, che non c'era una regola che mi autorizzasse a farlo. Non avevo l'autorizzazione. Non avevo l'autorizzazione. Un vuoto normativo per alcune cose edilizie hai bisogno di un'autorizzazione. E non ce l'avevo. Quindi diciamo che nel primo caso è proprio... Un abuso edilizio sanato. Esatto. Anche se sanato è brutto dirlo, perché è la sanatoria. Condonato. Esatto. Un abuso edilizio condonato. Mentre l'altra cosa è un difetto di autorizzazione che a quel punto viene sanato appunto, e quindi diventa autorizzato, esposto, diciamo così. Bravo, anche il latino, bravo. Va bene. Esposto. Questa è la differenza terminologica, così almeno intanto ci capiamo. Allora, Salvini ieri ha parlato di questa, lui l'ha definita sanatoria, in un condono. Sarà possibile in qualche modo, ad esempio, mettere dei tramezzi con una collocazione diversa, finestre che non c'erano, finestre che sono state fatte senza il titolo, che a questo punto vengono regolarizzate, piccole porzioni di immobili, ad esempio delle nicchie che vengono create, che non risultano ai documenti, che vengono regolarizzate. Questo è un esempio del condono della sanatoria edilizia che vuole fare il governo. Vi spiego quello che ho capito io. Ad esempio, c'è chi compra una casa sulla base di una planimetria che non corrisponde allo stato effettivo, viene sanata e quindi io a quel punto quello che compro è regolare, non devo pagare. Due, oppure manca la documentazione di uno stato che viene fatto perché è una casa vecchia, prima degli anni 60, in questo caso viene sanato, anche in questo caso, oppure ci sono delle incertezze interpretative tra la planimetria e l'effettivo stato dell'immobile. Tutti questi casi, secondo il Ministro Salvini, possono essere sanati pagando però, questo lui lo specifica. Quindi il proprietario della casa deve pagare in qualche modo, però a quel punto la sua casa diventa regolare. È giusto? Manca qualcosa? Spiegaci che cosa... Ti faccio un altro esempio. A Milano ci sono tantissime case costruite negli anni 60-70 con lunghissimi corridoi appena entri. E dentro le porte poi trovi la sala, minuscola, perché c'è il corridoio e quindi c'è il muro. In molti casi, nel corso degli anni, qualche piccolo intervento di inizio... Uno ha spaccato il muro, sì. Il muro ha fatto magari il muretto, alcuni che erano attenti perché così riuscivano a fregare quello che era la norma facendo il muretto e mantenendolo basso, altri hanno buttato giù tutto quanto e non sapevano che dovevano comunque dichiararlo perché andava a modificare la conformazione della casa. E' chiaro che sono delle piccole cose, piccolissime proprio, che tra l'altro bloccano gli uffici dell'urbanistica a Milano come negli altri comuni con pratiche che ovviamente rimangono lì per mesi se non per anni bloccando poi anche i vari interventi edilizi perché... Perché questo succede nel momento in cui io vendo la casa perché se lo faccio in una casa che resta a casa mia rimane tua e te ne fregli perché comunque non devi venderla in quel momento. Però se io la vendo a te e tu ti ritrovi sulla carta una casa ma al muretto dall'altra il problema è tuo che la compri, giusto? Il problema è che esattamente, proprio così, ma partendo dal presupposto che poi per poter vendere la casa vuol dire che tu devi andare a presentare un nuovo progetto edilizio, aprire la scia, sanare tutto quanto cioè diventa veramente difficile e complesso e fa perdere tanto di quel tempo agli uffici pubblici che è una roba incredibile. Invece pagando la sanatoria, quindi comunque i soldi arrivano al Comune, allo Stato e tutto quanto vai a sanare quelle piccole cose che non cambiano la vita a nessuno perché sono già interne alla casa, ma che ti permettono poi ovviamente di poter salvare anche del lavoro inutile che altrimenti dovrebbero fare i vari comuni. Cosa diverso ovviamente dalle case del Kirin, che poi non so se vuoi arrivare dopo. Dopo parliamo anche di quello. Per capire, quelli che hanno fatto nel tempo il classico bagno dove non dovevano farlo, che per vendere la casa devi rismontare la doccia, il vato, tutto quanto, perché in questo caso oppure hai aperto una finestra, oppure hai aperto una finestra. Perché il primo a semplificare in questo settore fu Silvio Berlusconi. Gli va dato atto, il quale giustamente... Quando uno del Movimento 5 Stelle dice una cosa positiva su Berlusconi... Ma va detto, va detto perché c'era... Però lo accusavano di fare i condoni edilizi a Berlusconi. Ma ha semplificato in una situazione in cui veramente se tu dovevi fare, come dici tu, dalla cucina tiro fuori il bagnetto, dovevi chiamare l'architetto piano. Invece adesso devi fare una comunicazione al comune dove dici, io ho il bagno, ho la cucina, tiro fuori il bagnetto, faccio la comunicazione, è tutto molto semplificato. E quindi cosa cambia? Ma sanatoria sarà... Chi non ha fatto la comunicazione può sanarlo. Ma sì, ma tu capisci che sono ipotesi talmente residuali, perché siccome fare la comunicazione non ti costa niente. Però ci sono tante. La fai e fine trasmissione... Ma quindi cosa cambia da ieri a oggi? Ma nulla, che saranno in pochissimi a usufruire di questa cosa ed è semplicemente la trovata elettorale di Salvini che vuole un po' di musicità. L'80% del patrimonio immobiliare necessita di questi interventi, oggi leggevo. L'80%. Vuol dire che dagli anni 80 ad oggi nessuno ha utilizzato le procedure semplificate, mi sembra assurdo. E tutti hanno fatto un bagno in più. Cambia il messaggio che passa, perché il messaggio che è passato è un messaggio elettorale. Si gioca sull'ambiguità tra sanatorio e condono, non puoi dire a volere... Ma questa è una sanatoria o un condono? Una sanatoria. Noi abbiamo scritto condono il titolo, però a questo punto Ambra che orreggiamo il titolo o no? Eh sì. Cosa dici? Secondo quello che hai detto e aver letto anche prima le due differenze è per forza la sanatoria. Allora, mi piace fare d'ora in poi i titoli che cambiano. Sì, sarà contenta Ambra soprattutto. Chi l'ha letta la norma? Che non c'è. Non c'è. Quindi stiamo parlando... C'è quello che ha detto Salvini alla stampa. Stiamo parlando di una... Peraltro anche la Meloni, perdona, mi ha detto non ho ancora letto niente, voglio vederci meglio. Anche Tajani. Anche Tajani, quindi ancora non sanno... Però da quello che dice Comelli è più o meno una sorta di copia e incolla o di replica, diciamo così, della questione fiscale. Quando saldo e stralcio alla fine è venuta fuori una rottamazione quater prolungata. Siamo alla vigilia delle elezioni, la Lega è in difficoltà, non può dire togliere molici perché l'ha già fatto qualcun altro, allora butta lì questa ambiguità tra sanatori e condoni. Intanto faccio passare il messaggio che comunque, anche se ti è capitato di sbagliare o hai fatto una casa abusiva in qualche modo, faccio passare il messaggio. Attenzione, sono due cose totalmente diverse. Quando si passa parlando di una casa abusiva ma si parla di piccole irregolarità all'interno di quelle che sono le cose. Di quello stiamo parlando. Ma se ad esempio io ho preso, ad esempio il sottotetti era già stato fatto. Il sottotetti c'è anche una legge in regione Lombardia e dappertutto. Quello era già stato fatto. Ma per quello che dico ormai risulta veramente talmente poco. Facciamo un'ipotesi, io ho coperto, aspetta Samuele, facciamo degli esempi concreti per chi ci guarda. Se io un terrazzo lo copro e lo faccio diventare una camera da letto. No, attenzione. Quel caso lì, c'è anche la volumetria che cambia. Quello è un abuso, quello sarebbe un abuso e non è incluso. Tirare su e tirare giù un muro all'interno della casa. Dentro la casa. Ma vuol dire che fai la cameretta per il bambino e fai la sala un po' più piccola. All'interno delle volumetrie o adesso non lo so se sarà incluso, comunque si parlano di volumetrie piccolissime nel caso in cui ci fosse una difformità magari esci un pochino con la finestra, che ne so, giusto quello. Nulla di più, nulla di meno. Le cose che sono state fatte tanto in passato, ricordo, era la questione dell'abitabilità che non te la davano per la mansarda o la taverna e tu andavi liscio perché dicevi tanto prima o poi arriverà il condono. Effettivamente spesso è arrivato, chiamiamolo condono perché si chiamava condono all'epoca. Non c'era la sanatoria. In Regione Lombardia venne fatta la legge, non sui sottetti, ma per i piani interrati. Ma in realtà è stata sfruttata pochissimo perché comunque ci sono delle norme che tu non puoi andare a derogare, norme di tipo nazionale. E quindi, voglio dire, sono ipotesi veramente residuali. Se uno abitasse nell'interrato e non avesse utilizzato la norma di Regione Lombardia, quella non è una sanatoria, diventa un condono perché lì non ci puoi andare ad abitare. Ok, però non è quello di cui stiamo parlando. Se fosse così sarebbe una follia. Ok, un'altra cosa che leggo che dovrebbe diventare più facile con questa sanatoria è il cambio di destinazione d'uso. Dovrebbe diventare più semplice. È abbastanza semplice, non è che sia così complicato ultimamente. Dipende dalla tipologia. Ah beh, sì, ok. Ci sono delle... No, però qua io leggo se sono categorie affini. Sì, no, beh. Cioè non posso prendere un palazzo e farlo diventare un uovo di culto. Però anche adesso il cambio di destinazione d'uso. È vero che... Ma non è così semplice, attenzione. L'ufficio abitazione è abbastanza, dai. L'ufficio abitazione è relativamente semplice con una serie di scartoffe e si può velocizzare sempre di più dal mio punto di vista. Meno burocrazia fa solo bene al paese. Anche perché, ripeto, ufficio abitazione è un cambio di destinazione d'uso talmente normale, talmente, come dire, una cosa semplice che dovrebbe essere semplice. Ma magari non c'è che c'era già. No, il deposito non lo puoi far diventare abitazione perché il deposito è interrato di solito e ti scontri con delle normative che non è l'ufficio con l'abitazione. No, però un ufficio che ha il pianotero, al primo piano, come è l'ufficio. L'ufficio, quella lì, sì. Sì, ma non è una cosa che cambia effettiva. Il fatto di dire, ok, prima a piscina ha detto trovo il modo per fregare la norma, quindi lascio mezzo un muretto e faccio la cucina confinante con il soggiorno. Allora, se stiamo parlando di questo, se è vero che l'80% del patrimonio abitativo italiano in quelle condizioni lì, non lo so, mi sembra un numero un po' eccessivo. L'altro punto, si è parlato di questa norma come una norma che piace molto ai costruttori. Se però una norma di questo tipo, quindi la modalità della sanatoria come l'abbiamo raccontata, faccio fatica a dire... Però no, attenzione, perché l'Anci dice non si tratta di un condono, il provvedimento mira a risolvere piccole difformità di natura formale all'interno delle case, tutte difformità prima del 1977. Si tratta di cose minimali, quello che state dicendo voi. È un provvedimento interessante nel breve termine, ma è una goccia nel mare rispetto alle soluzioni che bisogna trovare alle medie lungo termine. I costruttori vogliono ben altro. Certo che vogliono ben altro, vogliono costruire molto di più. Quindi voglio dire, non è che è stato fatto per tenere buoni costruttori. Sì, però a parte del risultato che dobbiamo fare, stiamo facendo il nuovo piano casa. Sì. A livello governativo, quindi quella sarà una cosa che arriverà e che sarà a parte rispetto ovviamente a questa e sarà molto importante anche per i costruttori. Non perché devono costruire di più, ma perché avranno delle norme aggiornate, chiare, definite. Spesso e volentieri si va a scontrare con delle norme addirittura del post-guerra, che sono decadute. Per esempio quella sulla quale ovviamente c'è la questione a Milano relativa ai piani integrati di intervento. Cioè tu per costruire a Milano dovresti fare un piano attuativo. Questo vuol dire cinque anni per ottenere un permesso a costruire. Coglia totale, che non può assolutamente esistere. È chiaro che andiamo a definire delle nuove norme che ovviamente devono essere ben chiare, definite e non permettere a chiunque di costruire qualunque cosa. Ci mancherebbe altro, ma nello stesso momento permette ai costruttori di avere delle tempistiche che siano anche certi. Perché cinque anni per costruire, per fare un palazzo con un piano di intervento è una cosa che non può esistere in una città come Milano. Però tu di... Quella non è una sanatoria, non rientra la sanatoria. No, è una città nulla, si sa parlare del piano casa... Tu parlavi di prima del 77. Sono cose differenti. 50 anni fa vuol dire che una casa in 50 anni non è mai stata venduta. Cioè probabilmente a livello catastale ci avrà un problemino da mettere a posto. Ma quanti saranno i casi? Case di 50 anni fa? No, certo, nelle case nuove... Beh, pieno. Se sono tutte nuove... A Milano sono veramente tante. Ma insomma io a una certa età le ho veste a posto tutte. Che però non devono mai essere state vendute. Se parliamo delle case, dei paesini, dell'entroterra... Insomma mi viene da dire che non sarà neanche questa norma qui a far ripartire le compravendite nelle aree interne. No, no, questo sì. No, ripartire le compravendite si tratta soprattutto dei prezzi, no? Sono i costi delle case. È il problema degli affitti, il problema dei costi delle case. Quello è il vero tema. L'edilizia è ripartita dopo il Covid con il 110%, nonostante tutte le critiche. Sì, che è costata una marea di soldi. Ma non è vero perché sono investimenti che poi nel tempo daranno il suo frutto in quanto risparmieremo sull'energia elettrica. Se lo Stato sono in una crisi grazie al centro. Ma questo lo dite voi e non avete fatto nulla da un punto di vista industriale. Adesso arriverà Casa Green e dovremo ricominciare con supporto da un punto di vista economico e finanziario. La Casa Green è un problema se la si guarda guardando indietro. Perché la Casa Green vuol dire che chi ci abita dentro vive in condizioni intanto più salubre e poi spende meno di brescaldamento, spende meno di condizionamento. Certo, l'obiettivo è avere una casa più coambientata. Il problema è che tu chiedi di fare un investimento sull'oggi che in una situazione come quella odierna magari qualcuno ce la fa, qualcuno no. Avessimo fatto qualche anno fa che la crisi economica era più, mordeva di più, secondo me andava buona. Allora io difendo il principio del 110, poi l'attuazione è stata che purtroppo non è andato dove ce ne sarebbe stato bisogno. Cioè nelle situazioni delle case più vecchie, più fragili ed è andata dove c'erano più soldi. Serviva per far ripartire l'economia dopo il Covid, poi si è arrivato dopo Conte, doveva intervenire in modo diverso. Ma c'è stato Draghi per quanti mesi? Il 110 doveva durare un anno e quattro mesi, poi è stato prorogato con una serie di maglie. Adesso arriviamo alla Casa Green, volevo però solo dirvi due cose. Uno che il PD ha commentato questa cosa dicendo che, come per dire, non ci interessa granché, quello di cui abbiamo bisogno è di un piano nazionale casa a sostegno dell'affitto e per il rilancio anche dell'edilizia pubblica. Su questo, quindi affitti e edilizia pubblica, a che punto siete? Visto che Salvini sta lavorando a quello. Il piano si sta costruendo, non si costruisce in due giorni perché è un piano complesso con normative serie dal punto di vista urbanistico e la storia di Milano ce lo insegna. Perché comunque se ci sono dei giudici che stanno, come dire, cercando di, col coltello, riuscire a trovare la bega a Milano, è chiaro che c'è molta attenzione sul tema e quindi non si può fare così da un giorno all'altro. C'è l'intenzione di intervenire, sia soprattutto per la questione delle case popolari. Matteo Salvini, il nostro ministro, l'ha detto più volte, bisogna aumentare anche questo tipo di abitazioni, ma anche l'housing sociale, gli interventi edilizi. Si sta lavorando con quelle che sono le sigle, ovviamente, partire da Ance e poi tutte le altre relativi al tema della casa. È un lavoro complesso, penso che nei prossimi mesi avremo dei buoni sviluppi della cosa e cominceremo a capire anche la direzione in cui il piano casa andrà. Ma perché allora è venuta fuori questa cosa, che è quella meno importante da quello che dici tu? Perché è quella più semplice da fare fin da subito. Quella di fare questa sorta di sanatoria? Ma certo, è una cosa semplicissima, basta fare un decreto, lo fai passaggio alle Camera e Senato. E prima delle europee ce l'hai, giusto. Invece vi dico, l'opposizione del PD è questa, l'opposizione di Lega Ambiente che dice che in realtà questo sistema della sanatoria non serve perché bisogna combattere il ciclo illegale del cemento che ad esempio è stato raccolto nell'ultimo rapporto Eco Mafia di Lega Ambiente che ha avuto una crescita del quasi 29% nel 2022. e dice che la vera emergenza sarebbe quella, non fare questa sanatoria. Quindi questa è la critica che arriva dagli ambienti. Forse non ci rendiamo conto che questa sanatoria può comprendere, che ne so, per esempio, il fatto di aver messo delle finestre sul balconcino che parzialmente viene chiuso, come dire. Non totalmente, ma parzialmente. Anche quella che per esempio ha impedito il super bonus a Milano in una casa popolare perché il singolo cittadino che aveva messo questa chiusura parziale del balconcino ha impedito a tutto il palazzo di avere il super bonus perché c'era una difformità dal punto di vista urbanistico e pertanto non avendola tolto lui stesso, non essendo adatto ai comuni di Milano a togliergliela perché non poteva intervenire direttamente, tutto il palazzo si è giocato in super bonus, palazzo di proprietà del comune gestito da MM. Sono cose che danno una grande svolta anche dal punto di vista degli interventi che si devono fare dal punto di vista edilizio in queste case. Non prendiamola come se fosse semplicemente così acqua fresca, che tanto è una cosa inutile. Non è una cosa inutile, è una cosa che molti cittadini in realtà stanno provando a fare, magari si trovano in difficoltà e non riescono a farla. Però quello che dice Legambiente ovviamente è una questione che non entra tanto nel merito di questo provvedimento, entra nel merito di affrontare il vero tema che per loro è, per fortuna non è più tornato il consumo di suolo perché grazie al cielo nessuno sta pensando di consumare suolo, grazie perché in realtà c'era quest'idea prima, però in realtà è questo ciclo del cemento che effettivamente è qualcosa che fa gestire. Io potrei darvi ragione, se non si stesse parlando con le associazioni di categoria, perché prima di tutto questo piano lo vai a costruire anche con l'associazione di categoria per fare il piano casa. Invece si sta facendo il piano casa, quindi è una critica infondata. No, no, no. No, peraltro Legambiente parla di abusivismo edilizio, che è una piaga che sfregia al nostro paese. Però non c'entra niente. È già vietato adesso l'abusivismo edilizio. Dillo che non condonate l'abusivismo edilizio. No, no, non condoniamo l'abusivismo edilizio, assolutamente. Vai Fomelli. Attenzione a una cosa, il piano casa è vero che non si fa in 5 minuti, ma è da qualche mese che si annuncia il grande piano casa, molto più di qualche mese. Comunque a questo tavolo non ci sono tutti i soggetti, non ci sono i sindacati dell'inquilini. C'è la parte dei costruttori e di un piano che, almeno per quello che ho sentito io, ma ovviamente parliamo di sentito dire, di ipotesi, perché il piano casa ancora non c'è. Si parla molto di social housing, si parla molto di incentivo ai costruttori, ma si parla molto poco di case popolari. Perché se il tema fosse quello, allora abbiamo detto che, io sono d'accordo, trasformare un ufficio in un'abitazione... Non dovrebbe essere una cosa così complicata. Non dovrebbe essere un gran problema. Allora, prendiamo, cominciamo a ragionare su quelli che sono i grandi edifici del terziario dismessi, per riconvertirli in abitazioni che ovviamente siano anche sostenibili dal punto di vista ambientale. Perché poi il punto è che, in questo momento, c'è una fase in cui il costo dell'energia, il costo delle bollette, è una delle voci di spesa più importanti per le famiglie italiane. Allora, vogliamo partire da questo? Cioè, è più importante dare una mano a chi ha sempre fatto tutto nel modo giusto e oggi si trova a non poter pagare le bollette o a chi si è fatto l'appunto il balconcino, la cameretta, ha tirato giù il muro? Non si può fare tutte e due. Appunto. È un tema di priorità. Perché se lo ritrovano spesso e volentieri, a questa situazione, non è che sono andate a cercare loro direttamente. Ma no, se non se la ritrovano perché se la casa... Se io compro una casa dove hanno fatto il balconcino non è neanche colpa mia. Ma non potete comprarla? Se c'è una... Se la difformità... Ma non è una musra, la trovo anche un pezzo. Ah no, certo. Se la difformità blocca la compravendita o non te la ritrovi? Dovrebbe essere bloccata, certo. Dovrebbe essere bloccata. Però in questo caso la posso comprare, se la sei fisica, no? Sono provvedimenti, fine a se stessi, che non portano nulla a nessuno, se non al Pinco Pallino che deve veramente sistemare il catastro. Il problema è che manca una visione d'insieme. Cioè, in Regione Lombardia, quando ero in Consiglio, abbiamo approvato la legge sulla rigenerazione urbana. Ma è stata utilizzata pochissimo. C'è la necessità di fare una pianificazione seria di quello che è il nostro territorio, evitando il consumo di suolo, andando a recuperare le aree dismesse, intervenendo su un patrimonio edilizio che ha più di 100 anni, sia quello pubblico che quello privato, è antiquato. Deve essere rinnovato con la Casa Green. Su lì bisogna mettere... Beh, la Casa Green c'è l'Europa qua. Ma certo, ma bisogna mettere masse di soldi in investimenti e rilanciare in quel modo una economia, da un punto di vista dell'edilizia, che riqualifichi e valorizzi anche quello che è il nostro patrimonio. Ma non lo fai con una sanatoria, lo fai con un altro. Partendo dal presupposto che comunque il Superbonus, il 110%, ha prosciugato le cazze dello Stato e ci ha indebitato per 50 anni. Quindi partiamo da questo semplice presupposto. Sì, un debito più, un debito meno. I numeri sono quelli che ci sono... Però eravate al governo anche voi con Draghi. E quindi Draghi l'ha rimandato su vostra richiesta, perché altrimenti... Ma gli ultimi sono stati... Beh, ma anche voi, anche la Lega. No, noi non eravamo d'accordo. Gli ultimi sono stati quelli di Forza Italia che lo proteggevano. Partendo da questo piccolo presupposto, tu la fai semplice a dire ah, dobbiamo investire, il problema è che quei soldi li dovranno mettere i singoli cittadini. E si fa una stima che fare la Casa Green in un palazzo costerà 50.000 euro a famiglia. Da 35 a 60. Da 35 a 60. Adesso vediamo il servizio. Mentre invece, per quanto riguarda le case private, arrivano fino a 100.000 euro. Ora, io, 50.000 euro che vivo in un palazzo, non ce l'ho neanche. Sì, ma nessuno ha detto che devi mettere tu, eh. Nessuno ha detto che devi mettere tu. Vabbè, adesso hai già gli incentivi. Perché se ti mette l'Europa, vi ricordo che anche PNRR in realtà in questo momento è a debito. Quindi, fino a prova contraria, noi prima o poi dovremmo restituire questi soldi all'Europa. Certo. Sempre di meno perché non li state utilizzando. Vediamo, vediamo, vediamo appunto che cosa... perché a Milano sono 30.200 gli edifici che dovrebbero essere messi a norma, secondo quello che ci chiede l'Europa. E la spesa per ogni alloggio va da 35.000 a 60.000 euro. Certo, è una follia se ognuno pensa che deve pagarsi la propria quota. Vediamo il servizio. Quale ripercussione avrà la direttiva europea sulle case green in una realtà come quella di Milano? Molti se lo chiedono e iniziano a spuntare i primi dati. Se l'obiettivo fosse quello di raggiungere la classe energetica D, sarebbero oltre 30.200 gli edifici da riqualificare. Senza dubbio un costo esorbitante che non è ancora stato deciso se verrà sostenuto dallo Stato o dovrà aggravare sui proprietari. La direttiva infatti ha rinviato ai singoli Stati le modalità su come intervenire. I paesi dell'Europa avranno ampi margini di discrezionalità. Bisognerà sciogliere molti dubbi. Ad esempio, se i proprietari non sono in grado di affrontare le spese, cosa accadrà? Se lo Stato dovesse finanziare gli adeguamenti energetici, occorrerebbe una cifra estremamente elevata. In pratica si tornerebbe a parlare di un bonus, tipo quello del 110%, accusato di aver creato una voragine nei conti pubblici. Per far guadagnare classi energetiche a un edificio, occorre realizzare il cappotto nell'involucro esterno. Poi la sostituzione degli infissi, dei vetri e tutto ciò che consente il risparmio di elettricità e gas. Per raggiungere la classe D sono coinvolti non meno di 30.200 stabili. Di questi, circa 10.500 solo nella classe G, praticamente la peggiore. 11.400 in classe F e circa 8.400 in classe E. In totale ci sono oltre 577.000 alloggi, 220.000 dei quali in classe G, 218.000 in classe F e 159.000 in classe E. Secondo gli esperti, bisogna tenere conto che vi sarà un divario di prezzo notevole tra il valore di un alloggio relativo alle classi più virtuose e quelle peggiori. Secondo Kodakons, il costo medio sarà compreso tra i 35.000 e i 60.000 euro ad abitazione. Che non si capisce com'è lì chi li deve mettere. Non è ancora ben chiaro. Non è che non si capisce. L'Europa dice che questa roba qui va fatta, ma è anche un tema di sostenibilità energetica del pianeta. È una persona non rimandabile. Chi li metterà i soldi? È chiaro che già in questo momento tutti i palazzi devono avere il certificato di donetà statica, giusto? Se un palazzo non ce l'ha, deve fare quei lavori che servono a garantire che il palazzo stia su. Non è un capriccio. Serve a garantire la sicurezza di chi ci abita. Allora, nel momento in cui la direttiva europea sembra andare nella direzione del dire, del dare ovviamente la libertà a ogni paese di scegliere in che modo finanziare o non finanziare questa misura, la risposta è trovare il modo. I soldi, io insisto, i soldi ci sono. E però questa cosa qua, che i soldi ci sono, è un po' generico. Io vorrei rassicurare chi ci guarda, perché chi ci guarda pensa, e io come faccio? Ma secondo te il costo della bolletta è solo quello che arriva dalla bolletta? Non è solo quel costo lì, eh? Cioè noi, per il petrolio, quanti anni è che continuiamo a fare guerre? E l'abbiamo visto anche negli ultimi anni. Stiamo facendo le guerre per il petrolio, giusto? Quindi il costo della bolletta non è solo quello. Il costo della bolletta è anche quanto costa un missile sparato in Ucraina, eccetera, eccetera. Ma praticamente, queste abitazioni, chi le paga? Se tu sei dipendente dal punto di vista energetico, costa di meno a tutti. Adesso siamo molto meno dipendenti di prima col petrolio. Non è sufficiente, non è sufficiente per andare a fare le guerre. In un palazzo, anche se metti tutto il tetto tempestato, metti un pannello fotovoltaico dietro l'altro, non riesci ad arrivare all'indipendenza energetica di tutti quanti i condomini. Quindi già questo ti dovrebbe far capire che l'indipendenza energetica in una città come Milano, è chiaramente molto complicata. In alcuni casi impossibile, in altri dove ci sono le villette, per carità, si può fare, ci mancherebbe altro, ci vogliono tanti soldi da metterci. Anche perché solo le batterie, perché l'indipendenza energetica le puoi raggiungere solo attraverso le batterie, ti costano 30 mila euro solo quelle. Ma che sono anche di consumo! Considerando il fatto che di notte ovviamente il pannello fotovoltaico non produce... Ci sono le comunità energetiche, lo sai anche tu, le sponsorizzate anche voi. Sì, ci sono le comunità energetiche, ma è la... Da mandare avanti. Vabbè, certo, la chiave è quella lì delle comunità energetiche. L'indipendenza è una cosa, se tu mi parli di indipendenza energetica... Iniziamo con quello. Ma è il pannello fotovoltaico, con le batterie, devi mettere il cappotto, devi mettere... Ma l'idrogeno, c'è l'idrogeno! No, l'idrogeno, c'è una cosa un po' diversa. In tutta onestà, le comunità energetiche sono qualcosa che esiste e che da quello che ho... Almeno io la vedo così, non sono utilizzate e soprattutto sponsorizzate, portate avanti abbastanza da chi fa politica, fa istituzione, fa tutto qua. Secondo me... Invece andrebbero spinte un po' di più. Stanno partendo adesso. Io ho chiesto di fare delle comunità energetiche partendo da quelle che sono le case... Spieghiamo cosa sono le comunità energetiche. Le comunità energetiche sono... È un insieme di fonti. Esattamente, una serie di fonti energetiche, tra l'altro anche per di più condomini, di più caseggiati che si mettono insieme e che producono ovviamente quello che è il fabbisodio. Quindi non è solo il pannello solare o solo la fonte... Il pannello termico, c'è il... È tutto insieme, esatto. Il pannello fotovoltaggio, i pannelli solari termici che sono diversi, metti tutto quanto insieme riesci a soddisfare totalmente quello che è il tuo fabbisogno. È chiaro che io sono il primo che ho chiesto, per esempio nel villaggio di Fiori, che è un bellissimo villaggio all'interno della città di Milano, di fare una comunità energetica. Anche perché, soprattutto quelli che sono case popolari, vai ad aiutare le persone che in quel modo non devono più pagare le bollette perché non riescono ad arrivare alla fine del mese. È chiaro che per fare le comunità energetiche ci vogliono centinaia di migliaia di euro. E questo è un dato di fatto, non è che possiamo dimenticarci. Lo stesso comune di Milano mi dice, eh sì, va bene, ok, abbiamo fatto l'emendamento, noi siamo felicissimi, vorremmo farlo, adesso però non sappiamo dove trovare i soldi. È un problema, è un problema perché finché il comune di Milano che deve trovare i soldi, sono centinaia di miliardi di euro che deve trovare il comune e se non le fa è colpa del scomune, benissimo. Con la Casa Green, se il singolo non ha da 35 a 60 mila euro e abita in un palazzo, come caspita fa di fare l'intervento? Beh, sicuramente ci saranno degli incentivi. Non è possibile che i cittadini vengano lasciati da soli, questo non ci credo, non è possibile. Ok, quello che vuoi, vogliamo ricorrere i 10 mila euro. Anche perché gli stati ricevono degli input. Sono comunque dai 40 ai 25 mila euro, dai 50 ai 25 mila euro, perdonami. Cioè tu dici lo Stato non è da 10 mila. Non pensiamo di essere lo Stato del Qatar, allora a quel punto vogliamo fare una scelta, cosa che assolutamente non vogliamo fare e non faremo mai, lo premetto. O togliamo soldi in busta paga ai cittadini e torniamo indietro rispetto al... Cioè facciamo un prelievo oppure aumentiamo il rispetto. No, ma le comunità energetiche nascono per un altro film. In questo momento in cui sei in pareggio di bilancio è l'unica cosa che vuole fare. Le comunità energetiche nascono perché le aziende che hanno il pannello fotovoltaico sul tetto consumano energia solare fotovoltaica dal lunedì al venerdì. A sabato e la domenica la cedono agli appartamenti lì vicino. Perché il costo di trasmissione dell'energia costa il 30%. Cioè nella bolletta... Solo trasferirla? Esatto. Questa che usiamo noi stasera arriva dalla Valtellina e costa il 30%. Sì. Ok. Solo il viaggio costa il 30%. Se tu la prendi da quello che sta di fronte a casa tua hai già abbattuto il costo del 30%. Quindi organizzandosi in modo diverso c'è la possibilità di guadagnarci tutti. Ma bisogna essere innovativi e smart soprattutto. E secondo te il governo non lo è? Le comunità energetiche sono partite da poco e bisogna andare sempre di più verso questa cosa qua, la smart grid. Cioè bisogna avere dei sistemi interconnessi che ci permettono di ridurre i consumi, migliorare... E di risparmiare. Quello che fa il pubblico ad esempio, quelli che hanno la possibilità di farlo, le scuole, è lo stesso ragionamento che faceva lui. Da lunedì a venerdì deve consumare la propria energia, poi ha due giorni di energia cedibile teoricamente, ogni istituto scolastico. Certo, come le aziende. Ogni opero alimentari sì, ad esempio. La comunità energetica non è solo metto insieme il fotovoltaico, il geotermico, la comunità energetica è il mettere in comune l'energia che viene... Sì, sì, anche non solo in senso sincronico, ma anche diacronico, certo. No, ma lui ha fatto l'esempio chiaro, l'azienda, la scuola... Da lunedì al venerdì la scuola e l'azienda illuminano, l'azienda e la scuola, la fine settimana cedono. In Alto Adige, che non è esattamente la zona più soleggiata d'Italia, sembra che ci siano quella ventina di regioni che stanno un po' più a sud dell'Alto Adige, le comunità energetiche partono dalle scuole e con il fotovoltaico delle scuole viene alimentata buona parte, cioè viene prodotta buona parte dell'energia che viene utilizzata alla comunità. Allora, perché non si può fare? Dove si trovano i soldi? Allora, intanto io sono assolutamente certa che non si arriverà a dire domani tutte case green, se non hai 50 mila euro sotto un ponte così non... Beh, la scadenza è 2035 e poi 2050, ci sono delle scadenze... Ci sono delle scadenze che sono prossime proprio, che sono a medio termine, non l'abbiamo mai sfruttato. Allora, perché l'alternativa è non facciamo niente, cioè le scadenze sono a medio termine e c'è tutto... No, no, comunque in ogni caso dovremmo farlo, perché c'è una normativa che arriva dall'Europa, noi siamo vinti dentro questo sistema. Cioè, ci sono degli anni in cui ti devi strutturare per avere la possibilità di poi... Ma non è solo la normativa, è proprio la necessità di fare questa roba qua. Abbiamo visto con il Superbonus 110 che le aziende comunque non riescono a stare dietro a tutte le richieste di lavoro. Cioè, mettiamo in crisi non solo i cittadini comuni che devono pagare, mettiamo in crisi anche le aziende che non ce la fanno a starci dietro. Cioè, le cose vanno fatte con un minimo dissenno logico. Non possono essere prese e dire, dentro il 2035 devi fare tot e dentro il 2050 tutto il resto. Non può funzionare in questo modo. Però non è che l'Unione Europea stabilisce questi... Ma non è che hanno stabilito questi limiti perché si sono svegliati un giorno. Ma senza ombre riduto. Ci sono anche tutti gli altri paesi, non è che ci siamo solo noi. Allora posso dire, l'Unione Europea finanzi interamente, visto tutti i soldi che ogni anno noi cittadini italiani riversiamo all'Unione Europea, finanzi totalmente il piano. No, ma c'è una fortissima miopia politica. Noi siamo andati verso l'auto elettrica, per esempio, e non abbiamo sfruttato l'idrogeno. Quella è una possibilità, solo che l'industria, le lobby sono andate in quella direzione. Noi in Italia siamo morti, le automobili non le facciamo più. Se noi avessimo avuto una pianificazione economica, finanziaria, industriale, a protezione magari anche dell'industria automobilistica italiana, che non è proprio da buttare via, sull'auto a idrogeno, adesso saremmo stati leader. E invece ci siamo giocati tutti. Perché miopia politica che c'è stata negli ultimi anni? Cioè vedere solo, esiste solo la benzina e il diesel e tutto il resto. Abbiamo incentivato la Fiat che si è andata via e l'ha incentivato sull'idrogeno. È molto divertente, secondo me. No, la chiudo così. È molto divertente e simpatico vedere che siamo focalizzati su, giustamente, investimenti che dovremmo fare tra il 2035 e il 2035. Chissà, c'è una fame di case allucinante. Ci sono gli affitti che crescono il 20% in due anni a Milano. C'è la gente che cambia la destinazione d'uso da uffici ad abitazioni, ma per fare l'RBNB, non per abitarci, siamo in una situazione allucinante dalla quale non ci stiamo. E ma anche quella lì è una sciagura l'RBNB. È una sciagura quella. È una sciagura. Devi anche provare a cercare di capire cosa farne, però perché... Però il cibo l'avete dato voi, eh? Se dobbiamo parlare di quello, parliamo anche di quello. No, 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 no. No, ma non lo dicevo a voi, eh. No, io dicevo che purtroppo si parla di quello molto più che di questo, però. Beh, io non vedo l'ora che arrivi il piano casa. Bisogna vedere come... Non vedo l'ora che arrivi il piano casa. Non investisci quella roba. Così poi ne parliamo più concretamente. Certo, certo. Va bene, adesso invece parliamo di vigili, perché c'è il sindaco Sala con Giza e Ferricorti, ne parliamo dopo la pubblicità. Allora, rieccoci. Abbiamo detto Ferricorti tra Sala e Giza di Milano. Sala chiede più polizia locale per le strade, la sera e la notte. Sera e la notte, soprattutto. Ma solo, ce ne vuole di più, ma i vigili si attaccano a una norma fatta, stabilita ai tempi di Albertini. A un accordo. A un accordo che prevedeva che raggiunta una certa quota di anzianità, di servizio, di età anagrafica, i vigili possono non lavorare alla sera o la notte. E quindi loro dicono, noi ci rimettiamo a questo accordo e non vogliamo lavorare alla sera o la notte se rispettiamo questi requisiti. E Sala dice no, l'accordo è vecchio. I requisiti sono piuttosto ampi, nel senso che effettivamente arrivare a 70 anni, se ricordo bene. No, 70 e quota compresa. Tra età e anni lavorati, c'è gente che ha 40 e già chiuse in ufficio. No, ma come la quota 100 non è che devi avere 100 anni. Quindi c'è gente che non ha 60 anni, ma non ha 40 e non può uscire dopo le 7 di sera. Oggettivamente è un problema che qualcuno ha firmato una roba. Però vediamo il servizio. Sì, sì, certo. Che ha fatto? Alberto Carrera. Dai. Credo che il prefetto abbia agito con buon senso e abbia fatto una cosa giusta. Ribadisco che la città ha bisogno di più pattuglie e di vigili in giro la sera e la notte. Lo ha detto il sindaco Beppe Sala a proposito della decisione del prefetto Claudio Sgaraglia di differire lo sciopero della Polizia Locale di Milano, che era in programma per domenica prossima e che doveva tenerci in contemporanea con la Milano Marathon. I vigili protestano contro la richiesta di Palazzo Marino di aumentare le pattuglie serali e notturne. L'amministrazione vuole triplicarle. 30 pattuglie alla sera e 15 di notte. Per i sindacati della Polizia Locale si tratta di una violazione degli accordi del 2002. Accordi che prevedono che i vigili possano non effettuare i turni serali dopo aver raggiunto quota 70 tra età anagrafica e anni di servizio e possano essere esonerati dai servizi notturni al raggiungimento di quota 60 con le stesse modalità. Oggi il Comune vuole cambiare rotta, regole non più idonee alla situazione attuale, ha ribadito il primo cittadino. La città ha bisogno di più pattuglie in giro la sera e la notte. Troviamo le formule, discutiamo di tutto, però è chiaro che la città ha bisogno di più pattuglie in giro la notte. Quindi su questo andiamo avanti. Ma la trattativa sta proseguendo come? Sta proseguendo, però sono trattative delicate che purtroppo non sono mai nei tempi che uno potrebbe ipotizzare o sperare. Però andremo avanti. Allora, Piscina, voi state col sindaco o state con i vigili? Noi stiamo con i cittadini. Eh, no, volevo che mi dicesse. Sono qua. Ti posso dire, in realtà, quello che sta facendo il sindaco è un'operazione di denigrazione dei pubblici. Per esempio c'è il fatto che noi oggi abbiamo fatto una commissione consigliare, tra l'altro richiesta dalla nostra europarlamentare consigliera comunale Sardone, nella quale abbiamo udito proprio i sindacati. I sindacati hanno detto chiaramente, noi siamo assolutamente d'accordo sul fatto che i vigili durante le ore notturne e serali debbano aumentare, perché adesso, in questo momento, a causa di problemi organizzativi creati dalla stessa amministrazione, sono quattro pattuglie in giro per la città. Follia. Ci sono 2.655 agenti, ne avevamo di più prima. Sono 2.665, quando invece ai tempi di Albertina erano 3.200, quindi 550 in meno. Ora, è dal 2021 capitale che ci dicono che prenderanno i 500 agenti in più, poi sono diventati i 1000 e oggi Granelli invece li ha rifatti diventare i 500. No, sono 500 in più, però poi ci sono quelli che vanno in pensione, quindi di fatto non sono 500. Perché non vanno a supplire neanche quelli che sono i pensionamenti. I vigili sono assolutamente d'accordo, il sistema che però sta attuando il Comune di Milano è in primis un sistema legato proprio a quel coefficiente che dicevamo prima, che abbiamo sentito anche nel servizio, che vogliono cambiare, ma così facendo andrebbero a diminuire solo unicamente l'attività dei vigili di giorno per metterli durante la notte, quando invece abbiamo... Ah, ho capito, li spostano dal giorno alla notte, ma... non c'è assolutamente nulla, perché abbiamo 50.000 mancati interventi all'anno da parte della Polizia Locale, 137 al giorno, che tra l'altro il 95% sono durante le ore di urne. Sì, ma il motivo per cui sono il 95% durante le ore di urne qual è? Perché potrebbero essere... Perché ci sono pochi agenti. Ma secondo te potrebbero essere i nevasi di notte o di sera, visto che non arrivano... No, no, ma... Non ci sono gli agenti, come fanno ad essere i nevasi? Scusate, quello che io ti sto dicendo... Non chiamano mica i digimi, non c'è nessuno che ha risposto. Non servono più pattuglie... Lui ha detto, servono più pattuglie durante le notturne. Servono più pattuglie durante il giorno e durante la notte. Ok, ho capito, tu dici... Sono andati disastrosi. Tu stai dicendo, l'errore... Quattro di notte anche tu dici che sono una follia. No, no, quattro di notte servono a me. No, sono una follia nel senso che sono poche. A quattro di notte le pattuglie, sono pochissime. Quindi il problema non è spostarli dalla giorno alla notte, ma prenderne di più. Ok, certo. Cosa che non sta facendo oggettivamente il Comune, perché se va a ripianare solo i pensionamenti... Sentiamo cosa ne pensano gli altri. Comelli? Allora, sicuramente servono più vigili in strada, ma la domanda è cosa devono fare i vigili? Perché i vigili... Sono il corpo di... Certo, ma le pattuglie... E' un corpo di pubblica sicurezza. Sì, certo. E' un corpo di pubblica sicurezza, anche. E' un corpo di pubblica sicurezza, il cui compito principale dovrebbe essere quello di regolare il traffico e sanzionare le regolarità. Questo è quello che volete fare? Fare voi i vigili è una cosa di... E gli hanno dato il taser adesso? Gli hanno dato il taser? Sì. Vuol dire che fanno anche altro? Sì, assolutamente. Sì, infatti sul taser diciamo che qualche perplessità ce l'avrei, ma al di là dei vigili proprio in generale. A Milano c'è un tema di traffico, penso che sia abbastanza innegabile, un po' quello che dicevamo prima, non si trovano case, stiamo parlando delle case green e della sanatoria. Allora, sicuramente serve un maggior presidio della città di notte, ma serve, per quello che è il mio punto di vista, serve soprattutto una maggiore regolazione del traffico a partire dal giorno e poi anche durante la notte. Perché poi non è una, voi siete cattivi... Però è vero che c'è un tema del traffico, ma c'è anche il tema della sicurezza, cioè lo sapevo, penso che sia evidente, almeno quello che dice il milanese è anche che va bene, c'è tanto traffico... No, ma non dice solo il milanese, ci sono le classifiche di solo 24 ore, Milano, cioè... Anche fuori Milano, il problema è lo stesso. Cioè la sicurezza è un problema a Milano. In che senso è un errore di fondo? Non c'è un problema di sicurezza a Milano? No, no, allora, sicuramente non c'è un problema di sicurezza nelle dimensioni in cui viene raccontato. Io vivo in un quartiere che Piscina conosce molto bene, che è Via Padova, e devo dire che io devo dire... Tutti questi problemi non li vedi? Assolutamente no, cioè io non ho mai avuto una percezione, parlo di percezione... No, no, beh, mi viene da ridere perché c'è una notizia al giorno su furti e rapini in Via Padova. Eh, lo so che ti viene da ridere perché ci sono i trans che sputtano sangue infetto. A me non è mai capitato, però c'è il tema non è... Allora, se vogliamo raccontare che Milano è una città pericolosa, è una narrazione. Sicuramente serve un maggior controllo, una maggior presenza di forze. E' stato anche Sala a dire che i problemi ci sono. Non è che lo dice solo la Lega o Fratelli d'Italia. E' stato anche Sala che ha riconosciuto... Poi lui dice che c'erano anche prima i problemi, però ha riconosciuto che un problema di sicurezza c'è. Ma il problema di sicurezza al vigile... Non lo risolvi con il vigile, la polizia. Secondo me lei dice che piuttosto assumiamo più polizia, più carabinieri, ma il vigile faccia il carabinieri. Faccia il carabinieri. Il concetto è proprio quello, il problema c'è delle carenze di vigili anche fuori Milano. Non c'è il terzo turno, ma io vedo i vigili... Anche a Monza ce l'avete questo problema. A Monza, Lugherio, Cernusco, dappertutto. Però al mattino cosa fanno? Fanno attraversare i bambini sulle strisce pedonali. Dare il taser a una persona che fa... è assolutamente inutile. Ma vengono addestrati prima, sono stati addestrati. Sì, ma ognuno faccia il suo mestiere. Non è che loro danno a me, perché non lo so usare. La pubblica sicurezza non deve essere competenza di chi deve dare le multe per divieto di sosta. La pubblica sicurezza, quindi, sentirsi sicuri quando io questa sera tornerò a casa, non deve essere demandato alla polizia locale. L'incidente, se purtroppo dovessi farlo, polizia locale. Ma se io devo rientrare in casa in sicurezza, devono essere i carabinieri. Polizia, Ministero dell'Interno, che deve mettere... E certo, che sono loro che tutelano la nostra sicurezza in primis. La polizia locale lo fa anche in carenza e in aggiunta. Ma la sicurezza serale in Via Padova, da altre parti, deve essere garantita... Quindi il fatto che il sindaco voglia spostare i vigili dal giorno alla notte, secondo te è giusto farlo o è sbagliato per le questioni del traffico o per la sicurezza? L'ausiliario della sosta, se lo formi in poco tempo, puoi metterlo a far attraversare le strade i bambini... Ma anche il nonno vigile, come succede. O il nonno vigile, a trovarli. Non possiamo sostituire posti di lavoro con volontariato che oggi c'è domani no. Però puoi spostare quelli che fanno adesso quel lavoro, se trovi qualcuno che li superisce. Ma rimane sempre il problema che io scelgo di fare la polizia locale, quindi dare le multe di vieto di sosta, e il delinquente lo deve andare a prendere il carabiniere. Va bene, però adesso... E sono due mestieri diversi. Se tu adesso decidi di fare l'agente di polizia locale, non è come quando facevi il vigile negli anni Ottanta. E lo sai cosa vai a fare, in teoria è stato cambiato il corpo. Qui c'è la carenza di conoscenza legislativa. Quando io mi ricordo... L'agente della polizia locale ha potere di polizia amministrativa e giusto... Allora adesso vi leggo quali sono le funzioni della polizia locale. Controlli antidegrado e di sicurezza urbana. Servizio di vigilanza in occasione di fiere e manifestazioni. Accertamenti di polizia giudiziaria come organo di polizia stradale. Svolge anche attività di prevenzione, controllo, rilievo e repressione. Quindi c'è anche la sicurezza. Non è che se l'ha inventata la lega. Non è che se l'ha inventata la lega. In questo momento ci sia... Che in questo momento ci sia... No, ma questa è la definizione di polizia amministrativa. Sì, che in questo momento sia così è un dato di fatto. Che non sia l'impostazione corretta è un altro tema. Questa è una vostra chiave di lettura della polizia locale. Che però attualmente loro facciano questo. È una norma a livello nazionale ormai. Sbaglio a chiamarli Gisa, secondo me, perché non sono più quelli lì. Cioè mi stai contestando il titolo. No, no, dai, dai. Ma se a Milano c'è un problema di sicurezza. Lo risolvi facendo diventare da 4 a 15 le pattuglie dei vigili. No, però danno una mano. Nel frattempo sono arrivati dei militari in più, sono arrivati dei poliziotti in più. I militari in più sono lì davanti alla stazione centrale sempre fermi, tutti in gruppo. E non si capisce perché non fanno attività un po' più spinta. Perché io li vedo, mi ricordo... E non possono fare niente con le regole di ingaggio. Non possono fare niente. Ma almeno se tu solo vai avanti, dietro... Dai, carabinieri e poliziotti. Ah, non la fuori. Cioè se tu pattugli... Aspetta, aspetta, una alla volta. Se tu pattugli a piedi, controlli il territorio. Sì, devi farlo a piedi perché ti assicuro che ad esempio la jeep dell'esercito davanti alla stazione centrale c'ha un raccogliolio che perde costantemente sotto e non vuole neanche dare il giro. Diciamo che dalla casa green all'auto green lì ci passa davvero... Però il presidio del territorio lo fai facendoti vedere e muovendoti, non stando lì fermo. Però quello è un tema di regole di ingaggio. Ma sinceramente avere l'esercito che presidia la città con altre modalità, anche no. Cioè va bene così. Cioè il fatto che ad esempio siano arrivati dei militari in più a Milano e li hanno messi quasi tutti alla centrale e a Garibaldi... Nelle stazioni, anche quello. Ecco. Ma il fatto che non possano agire autonomamente... Ma meno male, meno male, assolutamente. Servono come deterrente sostanzialmente. Servono come... È molto limitato. Se sono accoppiati con... Ma sono sempre accoppiati perché così è previsto dalla legge. Posso leggere qualche messaggio? Leggi, leggi. Stanno arrivando tanti, soprattutto su WhatsApp. Vi ringraziamo, ovviamente. I vigili a Milano sono mandati sul territorio solo per dare multe, ci scrive Pierpaolo. Il bilancio del Comune tiene conto di milioni di euro che devono, scrive in maiuscole, entrare nelle case dalle multe, questo dice Pierpaolo. Poi, buonasera, voglio più vigili di quartiere, un altro tema. Che è un altro tema che sono scomparsi. Per dare multe sempre, anche quello, però. Ma no, a cosa c'entra? Ma non mi protegge da quello che mi viene rubato casa. Ma il vigile di quartiere serve perché raccoglie le testimonianze, raccoglie le segnalazioni. Sei vigile di qualunque sia il vigile di quartiere, che sia un graduato, che sia qualunque cosa. Ok. Vede una persona che viene derubata. È tenuto a intervenire. Cina, l'ordine pubblico è di competenza dello Stato. Lo Stato siete voi che siete al governo. Non mettete abbastanza la polizia a Carabinieri. Non dovete scaricare la responsabilità sui denti locali. Non la dovete scaricare. Ma cosa serve allora il Ministero dell'Interno e il prefetto? Cosa serve? Vogliamo dire che la polizia locale può dare un grande contributo se viene affiancata sul territorio. La polizia locale state dicendo di colmare le lacune che il Ministero dell'Interno non riesce a fare. Stanno anche dicendo che la polizia locale non deve fare tante multe, ma deve fare qualcos'altro. Ho chiamato la centrale operativa dei vigili alle due di notte per una buca in strada, che questo in teoria è un qualcosa. Questo è un altro problema. Grande come una casa, dice lui, affinché venisse segnalata. Risposta, siamo senza pattuglie ma andiamo domani mattina. Tanto c'era la voragine, è fantastico. Lì in realtà c'è un problema, ad esempio questo è un problema. Beh, ma lì è diverso, però no, un attimo. Lì deve uscire la manutenzione del comune a mettere quattro... Perché il vigile, sostanzialmente, lui accerta che c'è un punto. Se non ha il vigile, avranno la manutenzione del comune alle due di notte. Ebbè, certo, ma il vigile al limite se mette i birilli, mette i birilli, non fa altro. Non fa altro. No, no, ma il vigile è un incidente stradale, se tu lo chiami, lui ti dice, cercate di mettervi d'accordo voi. Sì, esatto. Se no arrivo io tra tre ore. L'ultima volta ho aspettato quattro ore. Eh, eh. Era l'una di notte, ho aspettato quattro ore che arrivasse. Perché non riuscivi a metterti d'accordo tu? Perché non arrivava la pattuglia e la polizia locale. Ok. Eh, tra l'altro, vabbè, ne parliamo un'altra volta. Però, vi faccio... No, perché è stata poi bellissima la scena. Vi faccio un altro esempio. Il disturbo della quete pubblica, malamovida per intenderci, piuttosto che all'interno del parchetto, è competenza non della polizia di Stato, perché non è neanche ordine pubblico, non dei carabinieri, ma della polizia locale. E la polizia locale non interviene mai su questo tipo di azioni. Ora, se la polizia locale intervenisse, distoglierebbe la polizia di Stato, che spesso e volentieri, anche perché è tartassata di telefonata, a un certo punto prende, va e interviene, permetterebbe di non distogliere la polizia di Stato, ai carabinieri, da altre attività ben più importanti e potrebbe intervenire direttamente... Ma il disturbo della quete pubblica, questo non sapevo che era compito della polizia locale, quindi questo... Assolutamente sì. Se tu chiami i carabinieri, non ha problematiche... Eh no, lui sta dicendo ai carabinieri, lasciamo fare altro. Ma no, escono... I carabinieri escono, perché... Se c'ho il vicino di casa... Ma non solo che possono... Ma se c'ho il vicino di casa che alle tre di notte ha il volume altissimo, io chiamo i carabinieri o chiamo la polizia locale? Tu dovresti chiamare la polizia locale. Poi dopo di che la polizia locale non interviene, chiami i carabinieri, la terza volta che chiamano i carabinieri e che dicono, guarda che non sarebbe competenza nostra, gli dicono, va bene, arriviamo lo stesso e lo facciamo noi. Ma prima da chiamare sarebbe l'amministratore del condominio che... Alle tre di notte. È un comportamento non idone. Non so se il tuo ti risponde, il mio ti fa di notte e non mi risponde. Se il tuo vicino di casa disturba, può fare una sanzione economica. La mattina glielo dico. Sarebbe bello se la polizia locale facesse il suo lavoro, questo mi sembra un po' esaggiatto, però dice che non si vedono neanche più davanti alle scuole. Spatiamo un mito. La polizia locale fa il suo lavoro a seconda di quello che il comandante e l'assessore gli dicono di fare. Ho capito. Perché purtroppo il problema di Milano è che il comandante e l'assessore gli dicono andate a fare le multe. Buonasera, ma a parte i vigili, i poliziotti, esercito, carabinieri, tutti quelli che volete voi, ma poi le leggi le sostengono queste persone, queste figure? Oppure sono lasciate un po' alla berlina di tutto? Si torna al fatto, sicurezza. A me spaventa molto questa idea che per qualunque cosa si debbano chiamare le forze dell'ordine. Io sinceramente questa narrazione, il tema delle buche c'è questo adesso. No, vabbè, ma le buche non sono sicurezza in realtà. Però il fatto che ogni cinque minuti ci sia necessità di chiamare le forze dell'ordine perché succede qualcosa, mi sembra una narrazione anche un pochino eccessiva. Beh, però una grande città come Milano sicuramente ci sono tante emergenze. Assolutamente, sì, però torniamo a quello che era il punto iniziale, che è i vigili, la dico male, non vogliono uscire di notte appigliandosi a quello che è un accordo sindacale fatto nel 2002. Allora la trattativa sta andando avanti. E lui ride, poi Sala quando gli dicono sta andando avanti, lui ride. Perché effettivamente poi va avanti a colpi di scioperi annunciati. Eh sì, sì, sì. Evidentemente non sta andando avanti, ma allora il tema è di un altro tipo. Non è dovrebbero farlo i vigili, dovrebbe farlo qualcun altro. No, no, poi siamo arrivati a quello perché anche tu hai portato il discorso su questa cosa in realtà. Sì, 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 assolutamente. No, no, capito. Però io davvero l'idea di questa città che sia assolutamente invivibile, infrequentabile di giorno e di notte, io onestamente... Milano non è il Bronx, come ha detto più volte Sala, che però ci siano dei problemi. Il problema è che se esiste una percezione, non di tutti, ma di una parte consistente, perché se poi il tema viene posto, di insicurezza, dire che non esiste il problema sicurezza, secondo me, fomenta ancora di più l'insicurezza. Certo, è un errore che ha fatto la sinistra per anni. Secondo me è un problema. È un errore che ha fatto la sinistra per anni. Però, attenzione, anche dire che di fronte a ogni situazione la risposta è sempre l'intervento e le forze dell'ordine. Quello, secondo me, aumenta davvero. Ma tu quando torni a casa tua, la sera, in via Padova, tu giri con la macchina? No, non so parcheggiare, mi muovo in bici o con i mezzi. Quindi tu adesso torni a casa con la bici? No, con i mezzi. Con la metropolitana. Torni con i mezzi. E non ti viene un po' paura prendere la metropolitana la sera tardi? No, no. La metropolitana, no. 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 A quest'ora. No, dai. Ha più paura di parcheggiare. A quest'ora. No, no, ma per me è tardi anche a quest'ora. Allora, allora... Ma tu sei una di quelle che ha la percezione di sicurezza. Io ho paura. Io prendere la metropolitana adesso, da sola, non la prendo. La metropolitana è molto più frequentata a quest'ora che non è la fascia tra le sette e mezza e le nove, paradossalmente. Quindi per te non è una cosa... No, no, ma io ho molta stima di chi è più coraggioso di me. Dico con grande onestà, se invece che a Lotto fossimo in un quartiere che non conosco... O dove non c'è la metro vicina. No, magari uscire a una fermata della metropolitana, dove tutto intorno non c'è niente, ecco quello un po' di inquietudine. insomma, uscendo di... Cioè, per la strada, quindi? Certo, sì. Ok, e tu quando arrivi a casa tua, dalla fermata della metro a casa tua, sei vicina? A 11 minuti a piedi. Ecco, e lì non hai paura. Ma in una via... In una casa sua, però, in via Padua, voglio capire se hai paura. In via Padua è sempre pieno di gente. Cioè, a me spaventa molto di più stare in una zona dove non c'è nessuno. Che a volte in centro c'è meno gente a quest'ora. Perché lì basta davvero una persona che ce l'ha con te, cioè se è pieno di gente... Io bastare di fianco a via qua con gli spacciatori sotto, non mi sentirei molto tranquillo, però... No, ma guarda, abito proprio lì dietro, non... Abito proprio lì dietro, non... E tu dici, siccome c'è sempre movimento, eccetera, non è difficile che succeda qualcosa? Io devo dire che... No, no, ma mi interessa molto questa cosa, per capire la realtà. Qualcuno dice, se invece di usare la metropolitana usasse come lì la 56, magari non sarebbe così contenta, non so. No, 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 no. No, se passa... Forse la metto più sicura. Se passa la prendo, anche perché... Se passa la prendo, passa poi tra l'altro... Questo è un altro tema. Questo è un altro tema. Quindi secondo me vi trovate più d'accordo. Quando mi capita di dover tornare piuttosto tardi, lascio la bicicletta, allora io ti faccio l'ultimo tratto in bicicletta. Ah, ecco, esatto, e con quello sì sei più autonoma. Se qualcuno scriverà sicuramente, ma la trova. No, perché ti dico, perché vedo che c'è questo tipo di clima qui. A me è capitato l'anno del Covid 2020, ho fatto l'estate in campagna e ho bucato la bici in pieno centro a fine giugno. C'erano tipo 85 gradi a proposito di gas green e cambiamento climatico e non sarei mai riuscita a portare la bici a mano fino a via Padova. L'ho lasciata in centro a Milano e a settembre l'ho ritrovata. Per cui sì, la ritrovo. La ritrovo, questa è una risposta. Io ho una mia amica che l'ha lasciata invece sotto il, praticamente, verso il palazzo della regione e in quelle zone lì, neanche un'ora non l'ha più ritrovata appena comprata. Allora, adesso, scusate, allora facciamo così, l'argomento successivo è un argomento che io volevo trattare un po' con voi e un po' con gli ospiti dopo. Però, visto che l'unica donna è adesso, io volevo chiedere a lei un parere sull'argomento successivo. Vediamo, brava Ambra, allora questa statua che rappresenta una mamma che allatta, c'è stata questa commissione del comune che l'ha ritenuta inopportuna e quindi non ha voluto che i valori non fossero condivisi. Vediamo solamente il frizzo Ambra per favore della statua, l'autrice, mi ricordi, a Modeo, Piera Modeo. Eccola qua, è una statua molto semplice di una donna che allatta un bambino. Questa commissione, dove ci sono esponenti tecnici ed esperti del comune, vera Modeo, ha ritenuto che sia un valore, sia un messaggio un po' divisivo, non siano valori condivisi la mamma che allatta e quindi ha ritenuto non opportuno mettere questa statua a Milano, che peraltro era un dono che facevano gli eredi di quest'artista alla città. Sala ha intervenuto dicendo, ha preso un po' di tempo... No, dicendo che avrebbe chiamato per chiedere il motivo. Come mai? Ecco, volevo sapere a te, da donna, cosa ne pensi di questa cosa, poi lo sviluppiamo nella parte dopo. Davvero mi piacerebbe sapere qual è la risposta di questa commissione perché io lo trovo sorprendente. Allora, al di là del fatto che... Ma secondo te è vero che è divisiva l'immagine di Romana che allatta? Assolutamente no, ma non è che tutte le piazze, le vie, le statue di Milano sono ecumeniche, colgono il consenso di tutti. Ma dire che una donna che allatta è divisiva... Allora anche il dito di Cattelan è divisiva. Certo, ma posso chiuderla con una battuta? Sì. Cioè, allora a Roma dovrebbero togliere il simbolo della lupa che allatta i lupacchiotti? Certo, certo. Quindi non sei d'accordo con questa... No, ma non è che non so, trovo sorprendente che nel 2024 si possa pensare che l'immagine di una donna che allatta sia divisiva. Ok, Fumagalli? È assolutamente opportuna questa statua perché ci sono talmente pochi bambini che così sappiamo come crescono. Esatto, lasciamo da lì tutti quanti. Poi dopo uno può nascere in tutti, anche con la maternità surrogata, però dopo alla fine quella roba lì ci siamo... Da qualche parte bisogna nutrirci. Esatto. Non te lo chiudo nemmeno. No, ma è follia che venga data una motivazione di questo. Poi avete chiesto addirittura che il sindaco chieda scusa, però il sindaco non è che c'entra, è stata la commissione. C'è la regione che si è offerta di prenderla a lei. La commissione è nominata, è fatta da esperti e tecnici, ma è nominata dal comune stesso, quindi evidentemente c'è da rivedere anche la composizione di questa commissione. Eh sì, perché qualcuno di questi... e stanno stati più oltransisti addirittura del re, come si dice. Ma magari hanno visto qualcosa che ci sfugge, ma davvero mi sembra... Sì, ma vorrei capire cosa. Anche la motivazione c'è scritta, hanno scritto proprio il subverbale, è la motivazione. È sorprendente, cioè... Va bene, dai, adesso lo sviluppiamo dopo, perché è un tema anche questo. Grazie a Nenna Comelli, a Marco Fumagalli, a Samuele Piscina. Ci sono già gli ospiti che sgomitano nel cuore della porta. Cambiamo parterra, tra poco. Allora, rieccoci, rieccoci in diretta, è cambiato il parterra. Sì. Mi presenti tu? Certo. Dai. Allora, partiamo da dove? Mi piace quando presenti. Partiamo da dove? Dove vuoi tu. Davide Varra, Azione. Ciao, buonasera, buonasera a tutti. Mattia Abdu, Partito Democratico, Presidente Municipio 1. Casco il fagiolo, stasera. Buonasera. Andrea Mascaretti, fratelli d'Italia. Buonasera a tutti. E tanto che non vieni, Andrea. Ebbene, adesso è. Ben tornato. È a Roma, adesso. È a Roma, però sono contenta che sei tornato tra noi. Allora. È la settimana di San Sì e Sanremo. È da Sanremo. Noi da Sanremo. Perché noi, loro due non lo sanno, noi quando c'è la settimana di Sanremo, il venerdì facciamo la... Lui è ospite fisso ormai. Canta. Lui canta anche, sì, sì. Lui canta, sì, sì. Facciamo la puntata su una... Si vestiamo da sera, facciamo il controfestival. Va bene. Sì, passa. Abbiamo un'opera di pronto soccorso, facciamola in diretta. Ma sì, così, tanto. Facciamola in diretta. Salvatore, ciao. Ciao, Salvatore. Grazie di essere stato con noi. Abbiamo un problema di glicemia. I diabetici. Scusate. Vabbè, no, è un po' di zucchero, anzi, fa bene. A te, a me fa... Stanno arrivando le foto di statue in giro per Milano, tipo in Piazza Piemonte c'è una foto... No, aspetta, ricominciamo da capo. Chi si è collegato adesso? Abbiamo il titolo là. Vediamo il servizio di Paolo Pirovano che ci racconta cosa è successo oggi per questa statua che era stata donata dagli eredi di Vera Modeo a Milano, ma c'è una commissione del comune che non la vuole. Vediamo il servizio. La statua di una donna che allatta al seno un neonato ha spaccato in due la politica milanese. L'opera, dal titolo Dal latte materno veniamo, che i familiari della scultrice Vera Omodeo vorrebbero donare alla città di Milano, secondo i tecnici e gli esperti di una commissione interna al comune scelti dall'assessorato alla cultura, rappresenta valori rispettabili ma non universalmente condivisibili da tutte le cittadine e i cittadini e quindi non può essere esposta in piazza Duse, nella zona di Corso Venezia. I primi a non essere d'accordo con loro sono l'assessore alla cultura Tommaso Sacchi e il sindaco Giuseppe Sala. C'è una commissione che non risponde a me, io però pregherò la commissione di riesaminare la questione. Perlomeno ascoltando il mio giudizio, il mio giudizio è che non penso che urti nessuna sensibilità. Non mi sembra che sia un'opera che possa in qualche modo dare adito a qualcosa di offensivo nei confronti di nessuno. La maternità, cioè l'essenza della vita, è stata quindi giudicata divisiva da esperti probabilmente travolti da un eccesso di zelo che per non ferire la sensibilità di non si sa chi sono riusciti a fare peggio, imponendo all'arte una brutta copia del politicamente corretto. Allora io volevo fare i complimenti a Paolo Pirovano per questo pezzo, molto colorito, una penna molto interessante. Allora Mattia Abdu, tu fai parte di quella commissione? No, conosci qualcuno che è in quella commissione? Sì, nel senso che li conosco quasi tutti perché è fatta di tecnici. Dal 2002 che esiste la commissione, poi periodicamente... Come si chiama questa commissione? È una commissione che il Comune di Milano ha voluto una ventina d'anni fa, secondo me per un criterio giusto, cioè sottrarre alla politica e al politico di turno, in quel momento il centrodestra, ma poi... Certo. La valutazione estetica, filologica del fatto che alcuni privati o associazioni a seconda, artisti, donano... Quindi questa commissione valuta, se io voglio donare un quadro a Milano, questa commissione dice se questo quadro vale la pena di esporlo oppure no. Allora io la devo seguire. È una commissione che è fatta dalla sovrintendenza, dai tecnici che si occupano di arredo urbano, di cultura, di statue, appunto. Noi abbiamo... Ok, va bene, abbiamo capito. Questa commissione oggi dice che questa statua non sa da fare, non sa da mettere a Milano perché era... Non ha detto proprio questo, sinceramente. Ha detto che i valori non sono condivisi? No, ha suggerito, ha dato un suggerimento per posizionare la statua in un ambito... Chiuso. Sì, più raccolto, ospedaliero... Ospedalista. O altro, sì. Perché uno ha l'acqua solida in ospedale. Sarebbe perfetto per la Mangiagalli. O il Buzzi. Poi vi faccio l'avvocato del diavolo del perché a questa statua, a far arrabbiare alcuni, ma far arrabbiare sia in senso positivo che in senso negativo. Dopo facciamo la dietrologia. Prossimo capito. Questo è quello che ha detto la commissione. C'è un mezzo plebiscito per sala, o meglio, per il fatto di dire ma perché dovete vietare questa cosa. Qualcuno mi ha andato nelle foto di statue che io manco ricordavo esistessero con il seno fuori, in piazza Piemonte, dicendo allora dobbiamo togliere anche questo. Però in realtà non è... Ma non è il problema della tetta di fuori. Ah, così? La nudità, chi se ne frega, non è quella. Non è la nudità. Quello che dà fastidio a Mascheretti cos'è? No, ma non dà fastidio. No, no, ricordiamo un attimo. Sì. C'è un problema tecnico che dicono piazza d'use, è completa... Urbanisticamente... Quello va bene. Quello ci può stare come obiezione. È una definizione tecnica di una commissione tecnica. Sì. C'è una valutazione che potrebbe essere sul tipo di opera, no? Cioè che quel tipo di artista, io non entro e non do un giudizio io ovviamente, quel tipo di artista magari non è un artista, come dire, per la città di Milano, per occupare una piazza di Milano, ma magari... Cioè non è abbastanza importante da occupare una piazza di Milano. Sto parlando di questo in particolare, dico in generale, non ci sarebbe nulla di male se una commissione tecnica dicesse quel tipo di artista, quell'opera, non va bene per una piazza milanese. Dopodiché c'è un giudizio che invece non è assolutamente tecnico, è assolutamente ideologico su dei valori, che dice che i valori espressi simbolicamente da quella statua, cioè la maternità, l'allattamento, non sono valori universalmente condivisibili. E su questo tutti saltiamo sulla sedia, nel senso che è una roba incredibile su questa definizione, no? Perché allora, non so, voglio dire, se questa commissione fosse a Firenze dovrebbe coprire o far rimuovere la Madonna Medici di Michelangelo, tanto per citarne una, no? Quindi siamo pieni di quadri poi ancora di più esposti nelle più grandi gallerie... Che rappresentano la maternità, l'allattamento, sì. L'allattamento, quindi è una roba assurda, ma questo in tutto il mondo, cioè da tutto il mondo vengono per ammirare queste opere, considerate delle opere belle universalmente, quindi per tutti, e non c'è, credo, una religione che neghi la maternità. Quindi non è un problema di religione, questo mi sembra ovvio, no? Ma credo che sia un problema di follia, nel senso che una commissione tecnica che scrive questa cosa lì dentro, io infatti oggi ho suggerito, ho mandato anche un comunicato, dico, secondo me il sindaco, che ritengo abbia nominato quella commissione, bisognerebbe vedere che tipo di mandato hanno dato quella commissione, ma faccio fatica a pensare che... No, ma potete vederlo voi consiglieri comunali, perché c'è la delibera che li ha... Io non sono più consiglieri comunali, però tramite il tuo partito... Chiamiamo truppo, io gli diamo lui. Però diciamo, sicuramente bisognerebbe capire qual è il limite del mandato che è stato dato, ma mi sentirei di scommetterci che è un mandato di tipo tecnico, non di tipo di valori, cioè di dare un giudizio sui valori. Dopodiché, se anche ci fosse questa cosa che sarebbe sbagliatissima, io mi chiedo come faccio a una commissione nominata dal Comune di Milano al sindaco a dare questo tipo di giudizio su dei valori, dove credo che non ci sia un cittadino milanese che possa rinnegare la maternità. Noi infatti oggi abbiamo cercato qualcuno che fosse a favore di questa commissione per creare dibattito, ma non l'abbiamo trovato, Varra. Sei tu forse? No, assolutamente no, anzi il contrario. Ha ragione il collega che ha parlato adesso. Chiedo giù, però forse avete chiamato Alessandra Moretti, perché vi ricordate che lei proponeva di coprire i crocifissi nei ricimiti? Ma questo non c'entra con i crocifissi, non è religioso abbiamo detto. Però oggettivamente se avessero dovuto dare un giudizio di tipo morale, etico o politico avrebbero scelto dei politici, non dei tecnici. Esatto, giusto, bravo. Il giudizio che è andato mi sembra tutt'altro che tecnico alla fine, perché hanno detto che la statua sta bene, è bella, però deve essere messa in un posto chiuso perché può urtare la sensibilità di qualcuno. Ma io vorrei capire la sensibilità di chi? Cioè, vorrei capire con voi, anche nella follia, possiamo dire, dell'ideologia, come ha detto Pirovano, delle persone di questa commissione che hanno detto questa cosa, urta le sensibilità di chi? Questa non l'ho scritto. No, ma volevo arrivare a capire. Io mi sono fatto un'idea, però è una mia interpretazione. La cosa importante però è che, siccome è una commissione, per Bale, sicuramente quella. No, spettavo, parla lui. Scusami, voglio solo dire che collegiale la... Non è uno. Non è uno, quindi voglio dire più di uno. C'è stata una discussione. Ed è stata decisiva. È una maggioranza? No, è unanime. Ah, è unanime. È unanime il pronunciamento di una commissione, ripeto, fatta da uomini e donne. E qual è? Qual è secondo te? No, allora, io credo che ci possa essere una lettura che magari non condivido, quindi ambasciatore non porta pena perché appunto è sottratta al volere dei politici, per fortuna, dico io. La valutazione può, secondo me, una lettura può essere, è riduttivo in un momento in cui ci sono delle battaglie da parte delle donne, anche per affermare il fatto che la donna... Non è solo madre. Non è solo madre, sposa, sai queste retoriche, in cui forse ridurla all'allattamento... Ma non è che viene ridurla. No, ma io non sto difendendo questa roba, sto dando una lettura. Questa potrebbe essere una chiave. Chi non desidera essere madre o chi trova che quando sente dire, e questo è innegabile, che la donna è realizzata solo se diventa madre, perché scusate, in Italia c'è questa retorica, è anche sgradevole e pesante per chi non ha potuto o non ha voluto legittimamente avere figli, questa cosa. Però, detto questo, io trovo che invece appunto la statua non avrebbe offeso nessuno. Però vi faccio una domanda. Parlo io da non mamma. Posso fare una domanda? Dico anche una cosa, faccio essere ospite. Io non capisco niente di estetica delle statue e di opere d'arte. Se la statua fosse stata semplicemente ritenuta brutta, brutta, dalla commissione, avrebbero potuto scrivere quello, non parlare di valori, perché se scrivi quello, per me fai pensare che il tema sia quello. L'hanno anche ribadita, hanno detto, questi valori rappresentati, quindi sono maternità e allattamento, non sono universalmente condivisibili, quindi potrebbe urtare la sensibilità di qualcuno e il luogo pedato potrebbe essere un luogo religioso o un luogo, come dire, un ospedale dove magari nascono i bambini così, che mi sembra un peggiorare ulteriormente questa follia. Io avevo dato un'altra chiave di lettura, tu dici Mattia, e per non in qualche modo urtare la sensibilità delle donne, come sono io, che non hanno avuto figli e che quindi non hanno mai allattato. Ma non credo, perché non è che quella statua rappresenta la donna, rappresenta la maternità, che è una delle cose delle donne, quindi secondo me non è quello. Io ho pensato che poteva, invece, però forse io sono ancora più, vado oltre, poteva urtare le sensibilità di chi ritiene che il bambino possa nascere, possa essere cresciuto anche da una coppia di uomini dove non c'è l'allattamento. Guarda, dubito. Non lo so, questa... Siamo a questo livello, è un po'... Ma non potrebbe essere anche questo, non lo so. Qualcuno da casa la vista come... Come me? Se così fosse, sarei ancora più preoccupato di come vengono scelte queste commissioni, quindi... In qualsiasi degli esempi. La cosa incredibile che... Fallo per lo dire anche rispetto alle altre donne, che quella statua lì non rappresenta la donna, rappresenta l'allattamento della maternità. Però lui dice, visto che... Io non mi sento offesa. Ho capito, a parte che è una cosa soggettiva tua, però in realtà lui giustamente, secondo me, faceva un ragionamento dicendo, stiamo parlando di patriarcato da misi in maniera costante e continuativa. E probabilmente lui dice, può essere che quello abbia portato a fare un ragionamento dicendo, che però forse va comunque oltre. Comunque la commissione dice che la statua è brutta tra le righe, scusate. Ah, dice anche quello. Qualcuno ha letto il testo? No, quella parte che è stata riportata. La commissione esprime l'unanimità per il negativo per la tipologia dell'opera proposta, per la posizione. No, per la posizione un conto e per la tipologia... E per la posizione, suggerisce che l'opera venga posta in donazione ad un istituto privato, esempio, ospedale, istituto religioso, in quale sia maggiormente valorizzato il tema della maternità. Qui espresso con delle sfumature squisitamente religiose. Allora forse hai ragione tu. No, e no... No, forse è da quella la scultura. No, poi c'è, si è infatti, discusso di come la scultura rappresenti valori certamente rispettabili, ma non universalmente condivisibili da tutte le cittadine e cittadini, tali da scoraggiarle l'inserimento nello spazio pubblico. Ora, aspetta, 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 non farei un'eccessiva esegesi di quello che c'è scritto, quello che c'è scritto è molto chiaro, posso fare un'interpretazione che è molto chiaro, soprattutto anche quelle tre parole lì messe insieme, messe su quella riga lì, perché valori non universalmente condivisibili... Io li interpreto come hai detto prima tu. Dice non universalmente condivisibili, ok? E poi spiega quali sono, perché dice ha un carattere religioso. Allora, quello che noi abbiamo escluso prima è che... Esquisitamente religioso. E quindi invece torna, cioè il motivo per cui loro l'hanno esclusa è chiaro a questo punto, è perché rappresenta, ha un valore religioso, quindi rappresenta... E cosa c'è di religioso, scusate? E devi chiederlo a loro, però... Aspetta, a loro però, a loro, io non lo interpreto il valore esquisitamente religioso. Cosa c'è di religioso nell'allattamento? Aspetta, qualcuno ipotizza la casa. Nella religione islamica è vietato fare statue umane, poi a se non scoperto... Ma no, ma guarda, non sentiamo niente, perché non è una... Stiamo... Allora, diamo una notizia... A questo che scrivono, diamo una notizia, ne diamo due. La prima, la commissione non è composta... Da musulmani. Né da musulmani, né da rappresentanti in particolare della religione. Non è che deve essere perfetto. Do anche un'altra notizia, no, perché l'altro giorno una mi ha scritto pensando che io fossi stato nominato Presidente, sulla base del fatto che il centro-sinistra avesse bisogno di aprirsi... Alle quote musulmane. Alle quote musulmane. Più o più altre che non trattiamo in questa commissione. Allora, cioè, a volte veramente la gente si fa dei film. Ecco, basta. Sì, la gente sì, però questa commissione non è la gente. No, ma lo dico a chi ha pensato che... Però la tua chiave di lettura non torna sul fatto che parlano di cose religiose. Secondo me è un'interpretazione forzosa, sono d'accordo con Mascaretti, rispetto al fatto che se allatti e che se ti riproduci è una rappresentazione, come dire, molto da sacra famiglia, però secondo me è un'esagerazione, io non l'avrei vista così, siccome poi... Adesso diamo un'altra notizia, successivamente ai pareri viene chiesto anche un parere al municipio, se il parere è positivo, se la giunta... Ah, ok. Sì, perché la giunta poi... Questo che municipio è? È uno, Piazza Eleonora Duse. Ah, quindi chiederanno a te? No, dovevano. Ah. Se la commissione dà esito positivo... Avrebbero chiesto a te? Poi, siccome la giunta comunale fa un atto in cui dice accetta la donazione e si posiziona lì, di solito chiedono un parere al municipio. Sì. Però diciamo, abbiamo chiarito il perché. Quindi a me non arriverà la richiesta di parere. No, ma a questo punto è tutto chiaro, no? Perché dice... Io continuo a dirlo che è tutto chiaro. All'interno è una struttura privata. Religiosa, possibilmente. Possibilmente religiosa. E possibilmente dove nascono i bambini. Esatto. Quindi il motivo è quello, per cui hanno interpretato questa cosa, il nascere bambini, è come un qualcosa legato più a una religione. Sì, si hanno dato delle motivazioni, sono fuori il luogo. La religione è che a Milano esistono solo due statue di donne. Questa pur essendo limitata. Cioè? Sai che non lo so neanche. Beh, una è quella di vicino. Margherita Axe. Ah, in quel senso. Sì, sì. Poi c'è una... Vabbè, cerchiamole. No, ma l'altra è... No, è stata detta dire... Forse sì, è quella di Piazza Piemonte. No, l'altra... No, no. Stato di donne. L'altra è quella di fianco a Palazzo Marino, la piazzetta di dove c'è. Belgioio. Belgioio. Però è incredibile. Faccio presente che molti hanno detto che la statua è dedicata a Margherita Axe. Se voi chiedete a molti esteticamente considerata... Quella Cristina Tivulzio di Belgioioso l'abbiamo nominata. Sì, è quella. E questa c'è. L'unica che esisteva, sono diventate due con la statua di Margherita Axe. Quindi questa sarebbe la terza. La terza. Sarebbe stata. Pur rappresentare solo un ambito dell'universo femminile, però lo rappresenta in qualche modo. Pur rappresentando, ripeto, solo un ambito. No, no, ma secondo me... No, ma probabilmente è così. Io fossi stato nella commissione, piuttosto che dare questo tipo di suggerimenti, avrei detto se urbanisticamente quella collocazione è fuori luogo, cosa invece da urbanista, anche qui non la comprendo, se devo dire la verità, nel senso che è una piazza aperta, piazza se le ho ragluse con un'area pedonale al centro, secondo me quella statua non avrebbe sconvolto in alcun modo gli stilenti. Però non sarebbe successo nulla, cioè sinceramente non avremmo fatto discussioni su quella cosa lì, insomma. No, certo. Stavo a scrivere quello e era me. Secondo me la prima parte, come dire, è condivisibile, nel senso se non ritenete tecnicamente che sia adeguata per il luogo, oppure legittimamente che la statua sia brutta, io la trovo bella in realtà, però può essere considerata... Io non ho la capacità artistica di capire se è bella o bella. Ma faccio una valutazione soggettiva e infatti non faccio parte della commissione degli esperti. Se mi permettete io andrei oltre a dire questa cosa, al di là della commissione che veramente bisognerà ragionare su... Beh, ma adesso Sala ha detto rivediamo, quindi magari... Sì, ma non rivedere il giudizio della commissione, bisogna rivedere la commissione, secondo me. Però ecco, questo è sbagliato, scusa se ti contesto, perché ripeto, la commissione non l'ha inventata Sala, l'avete inventata voi nel... No, lui bisogna rivedere i membri della commissione. Appunto, sto ripetendo, scusate, finisco il discorso. E' un concetto sbagliatissimo. Se tu fai una commissione... Ma no, se tu fai una commissione tecnica e poi alla prima volta che fai una cosa con cui non sei d'accordo li sostituisce, allora si prendono la responsabilità di decidere i politici e ciao. Non è così, guarda, se io non fossi d'accordo tecnicamente il problema non si pone, non entro nel giudizio. Lui dice hanno sbagliato a dare un giudizio ideologico. Ma lo dite voi che è un giudizio ideologico? No, un giudizio che non condividete, è un'interpretazione... Però anche tu non lo condividi. Non è un giudizio tecnico questo qua, assolutamente, e quindi credo che si debba assolutamente rivedere la commissione e capire perché sono spinti lì. Dopodiché dico un'altra cosa, lancio questa cosa, ma non capisco perché ogni volta che viene regalata un'opera d'arte al Comune di Milano, bella, gradevole, come questa, si debba pensare semplicemente e sempre di metterla nel centro di Milano, no? Sono molto d'accordo con te. Se noi vogliamo rendere più bella tutta Milano, dal concetto delle periferie brutte così, cominciamo a mettere le cose belle anche nelle periferie. Sai qual è il problema? Che molti di quelli che donano, e te lo dico per esperienza, desiderano e ci sono state delle offerte di donazione di quelli che in linguaggio poco istituzionale si chiamano cifoni, scionfe, cose orrende, chiamiamole cose orrende. Donano anche le cose orrende. Ah, perché era cara mia madre, cara mio padre, cara mia cugina, mia cugina era artista, la voglio me, voglio un posto per esporre le mie opere d'arte, dove? A Grattosoglio, no, possibilmente in Piazza Cairoli, in Piazza del Buono, vogliono andare i pubblicitari, le manifestazioni anche con un ritorno, vogliono stare tutte in Piazza del Buono. Sapete la giunta comunale, con il comitato dedicato, anche fatto di politici, che fatica fa a ottenere, quindi sono d'accordissimo con Mascaretti, che alcune di queste manifestazioni vengano portate fuori dal centro? E molti rifiutano, piuttosto che non avere Piazza del Duomo e pagare suon di milioni, milioni no, ma suon di migliaia di euro il comune per l'occupazione del suolo pubblico, rifiutano. Quindi questo tema a ragione di fare è un problema, è un consumo di suolo diverso da quello da cui siamo partiti. Sentiamo Mascaretti e poi andiamo da Varra. Perdonatemi, mentre la pubblicità, lo capisco, è privata ed è fatta sul numero di visualizzazioni e così via, la scelta di un'amministrazione deve essere, quindi su questo poi si può lavorare insieme, dicendo ma quando abbiamo la fortuna che regalano delle opere al comune, il comune deve posizionarle. Ci sono tante piazze, peraltro anche nuove, che vengono realizzate in una periferia. Ma questo si fa, infatti. No? Nessuno che si può valorizzare molto di più che se venisse posizionata in qualche piazzetta del centro insieme con tante altre cose. Che magari si perde anche di più. Esatto. Se tu la metti a Quartogiaro la noti di più un'opera d'arte. Devo dire, io non sono un artista e non sarà mai un artista in grado di fare una scultura, un'opera che sia degna di Milano, ma se lo fossi, caspita, io forse perché amo tantissimo Milano, ma l'idea che una mia scultura possa essere messa in una posizione, e possa addirittura dare valore a un artista in Milano. Però ti sta dicendo lui che invece gli artisti che sono in grado di fare queste cose o le hanno ereditate, non fanno il tuo discorso ma fanno l'opposto. Perché vogliono andare in centro. Comunque, abbiamo una statua da posizionare a breve, vi do questa notizia. Noi abbiamo la statua di Nelson Mandela, dedicata a Nelson Mandela, che è sempre stata... Che ce ne aveva già una, no? No, c'è già. È sempre stata davanti al Consolato del Sudafrica. C'è un particolare, il Consolato del Sudafrica non c'è più. Ah! È andato via da Milano. Quindi noi abbiamo la statua davanti al Consolato. Che non c'è. Che non c'è, in una strada che è Vicolo San Giovanni sul muro, quindi non ci passa nessuno. Sinceramente nessuno. Adesso io deporrò nei prossimi giorni all'area dell'area d'Urbano dove mettere la statua di Nelson Mandela. Perché non è una statuina. No, è vero. Datecela al municchio. Anche perché è a grandezza naturale. Adesso che cosa succede? Perché a questo punto Sala ha detto che vuole rivedere un po' la questione. La Lega ha chiesto a Sala di chiedere scusa agli eredi della famiglia e di mettere la statua, di mettere la foto nella bacheca. Adesso poi mi sembra anche un po'... Esagerazione e strumentalizzazione. Esatto. Però tornando a quello, ma poniamoci il problema di... La richiesta era degli eredi di metterla in centro. Sì. Però poniamoci il problema... No, gli eredi hanno chiesto proprio Piazza e Leonora. Esatto, ma poniamoci il problema di perché chiedono solo il centro, c'è questa esclusività verso il centro. Perché sono lì. Ma perché c'è anche una mancanza di attrattività verso le periferie. Ci sono fior di periferie e bei contesti che non sono adeguatamente valorizzati. Certo. Penso al Corso Vercelli, penso... Sì, ripeto, oppure forse ogni tanto c'è l'egoismo nel senso che... Io sto in centro, vivo in centro, la mia famiglia è in centro, voglio la Stata in centro. E voglio stare lì. E di grattosoglio, scusate la banalizzazione. No, ma guarda, ci sono delle statue, scusate, dei borghi, degli angoli periferici. Penso a San Cristoforo, penso a San Cristoforo, a Chiara Valle. Ci sono degli scorci bellissimi. Posso dire che ad alcuni di questo tipo, come ha detto prima, Casoni, non gliene frega assolutamente niente. Senza entrare in polemica con la famiglia che ha proposto la Stata. Stiamo parlando di questo caso. No, no, assolutamente. Quelli che vogliono donare una... Un problema culturale che non è solo dell'amministrazione. Per avere un centro storico io direi se la tengano, insomma, no? Ma tu direi... Eh beh, però sai, dipende anche cosa ti donano. Scusate, però diciamo... Cioè, lui dice, tenetevela. Se non posso decidere dove metterla, tenetevela voi. Ma è chiaro, cioè... Ma a volte si fa così. A volte si fa così. Il senso è questo, se l'amministrazione pubblica riceve una cosa di valore, deve essere libera di scegliere dove posizionarla. Ma lui lo sa, è stato anche assessore. Non può essere imposto questa cosa, no? Eh, certo. Cioè, voi sapete il cavallo di Leonardo che era stato chiesto di metterlo al castello, poi è stato messo al trotto, là così, quindi... Però è un'opera che c'è, è molto bella, insomma, no? Quella lì, se decidi di non posizionarla in nessun posto perché non la metti lì, sei matto. Cioè, lì stiamo parlando d'altro. È una cosa superiore, diciamo. No, certo. Non è questa statua, pur bella che sia, insomma, secondo me. Va bene, vediamo come va a finire, perché a questo punto probabilmente se Sala ha chiesto delucidazione ci sarà un secondo pronunciamento, non lo so. Probabilmente, io credo che andrà a finire, che comunque... Che la espongono. Verrà esposta. E poi chiedono a te. Verrà esposta. Beh, se viene poi donata, tendenzialmente il municipio dal parere, ma io non mi sentirei, ma che è un parere consultivo, però io non mi sentirei mai di dare un parere con la giunta, di proporre alla nostra giunta municipale un parere negativo. No, ma certo. Mi piacerebbe sapere, visto che qui, scusate, sì, anche se non devo dirlo, da urbanista invece non avrei trovato particolari controindicazioni a Piazza Eleonora d'Use, ma perché quello è un ambito che non è più un ambito storico, inteso secolare. Sì, questa è contemporanea. Sì, quella parte di Milano è stata completamente sventrata e trasformata dall'architettura razionalista, quindi dal mio punto di vista, non di politico, ma di urbanista, è assolutamente coerente. Poi uno può dire che la statua non mi piace brutta, è un altro discorso, ma secondo me quel contesto lì si presta, anche perché se voi avete in mente i palazzi proprio da Corso Venezia, di Via Salvini, c'è proprio il razionalismo in tutta l'area di Porta Venezia, San Babila, mi fermo, perché trovo lì più corretto che una commissione tecnica esprima, no? Certo, no, no. Cioè, entrano i politici, entrano i tecnici. In quel caso sì. Comunque la chiuderei con una battuta, credo che i telefoni di qualcuno della commissione, visto quello che ha detto Sala, siano stati abbastanza roventi a un certo punto della giornata. Anche io oggi ho chiamato una funzionaria che so che nella commissione con cui ho un rapporto stretto a chiederle. Insomma, loro adesso sono... Ma te la... Sì, me l'ha spiegata come l'hanno spiegata nel verbale, lei peraltro... Però capisci che adesso c'è anche l'imbarazzo perché hanno avuto le pressioni tutta la giornata, però uno dopodiché scrive, usa delle motivazioni che in effetti possono essere opinabili, se ne deve prendere la responsabilità. Eh sì. Però sono contrarissimo all'idea dell'attacco e adesso li sostituisco, perché vuol dire però allora... Sarebbe un gesto autoritario. La commissione, torniamo al pre-2002, la giunta decide, si prende la responsabilità anche delle valutazioni tecniche. Io vorrei chiarire questa cosa qua perché... L'indirizzo politico è un'altra roba, casa mia. Vorrei chiarire questa cosa, io dico quando c'è una commissione che sbaglia qui, dal mio punto di vista, fino a che dimostrano il contrario, hanno sbagliato la grande perché hanno dato un giudizio che non competeva loro. Allora a questo punto io ritengo che bisogna fare una valutazione se gli elementi che compongono quella commissione, che deve essere puramente tecnica, siano adeguati a comporre quella commissione. Con un piccolo problema che ti faccio presente. In quella commissione c'è la sovrintendenza, che è un ente sovraordinato, che è legato al Ministero e che spesso pone dei pareri che sono assolutamente incontrovertibili, perché per legge ha un potere sovraordinato, come si dice. quindi si crea un precedente molto delicato, perché chi sta in quella commissione fa parte dell'ufficio arti di strada del Comune di Milano, quindi lavora da tecnico con un occhio però coerente col tema. Però adesso se la vedrà sala con loro. È molto delicato sostituire i membri, mentre dire non condividiamo riformulate le valutazioni può essere... State in quadrate Jacopo, cos'è successo? Temo il messaggio che è arrivato. Sì, perché... Leggicelo, puoi? Perché ha presente le biciclette che spariscono e tutto? Uno ha scritto... Perché sei così piccolo nella... A grattosoglio una statua durerebbe come un gatto intagenziale, cioè se la portano via... Ma dai, non è vero. Non è vero. Non è vero. Diciamo chiesa rossa allora, per stare vicini. Va bene tutto però. Va bene, dai, ci fermiamo adesso, perché poi volevo parlare, visto che ci avviciniamo alle elezioni europee, c'è un sondaggio che mostra che il 37% degli italiani vorrebbe un partito cattolico. Oh signore. Una specie di novella... Come si dice? Democrazia cristiana, a tra poco. Rieccoci, rieccoci. Allora, come dicevamo prima, arrivano le europee... Perché guardi così? No, volevo vedere... Scopi il nostro titolo. L'altro titolo. No, perché noi abbiamo il monitor davanti, quindi quando facciamo così è perché guardiamo il monitor, quindi perché siamo di un po' cieca... Io ce l'ho anch'io. No, io ci vedo da lontano. E allora? Ci vedo io, però mi viene in automatico. Vabbè, queste sono... È la vecchiaia. Andiamo avanti. I limiti fisici che ci contraddistinguono. Allora, 37%, sondaggio di Demos per quorum che emerge che il 37% dell'elettorato intervistato dichiara la necessità di un partito che sostenga i valori cristiani e cattolici, mentre il 49% rifiuta tale idea. Poi c'è il resto, il residuo che invece non si esprime. Quindi scusami, sono in maggioranza quelli che non lo vogliono? Sì, però il 37% che vogliono un partito cattolico è una notizia perché... Anche il 49% che lo rifiuta così categoricamente in realtà. Sì, ma non mi smontare l'argomento. No, 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 stai dicendo. Anche l'altro dato è... Quindi non rifiutano una cosa che non c'è, non ne sentono il bisogno, diciamo. Non ne sentono il bisogno, esatto. Ma l'altra, la seconda notizia è che di questo 37% c'è un 49% che sono dentro Fratelli d'Italia. E il 60% di elettori di tutti i partiti del centro-destra. Mentre invece solo il 31% del centro-sinistra e il 25% del PD. Insomma la maggior parte di questi che vogliono il partito cattolico, io sintetizzo, sono di Fratelli d'Italia o di Forza Italia. Quindi sono elettori vostri. O della Lega. Della Lega meno. Soprattutto Fratelli d'Italia e Forza Italia che vorrebbero un partito cattolico e che quindi sia, noi abbiamo semplificato come democrazia cristiana, però diciamo un partito di riferimento cattolico-cristiano. Mascheretti, questa cosa ti sorprende oppure no? Non mi sorprende perché comunque nelle cose che stiamo facendo e nei valori del partito ci sono i valori cristiani, i valori di riferimento. Quindi tutta la politica che abbiamo fatto per la famiglia ad esempio è stata una priorità nel bilancio che abbiamo approvato. Cioè tutto a sostegno della famiglia, della maternità, così come la legge contro l'uturo dell'affitto, cioè ci sono tutti i valori che chiaramente sono spartiacque tra chi ha certi valori, il valore della vita, il valore della famiglia e chi non li ha. Quindi tu dici io mi riconosco in questo elettorato che vuole questa cosa, siamo noi. Io sono un cattolico e come dire mi ci trovo bene in Fratelli d'Italia, cioè è una scelta che ho fatto e ci trovo tutti i miei valori. Peraltro oggi la notizia di oggi è che la Lega insieme all'Udc hanno fatto un gruppo unico in vista dell'Europa e come il minardo della Lega dice questa è una risposta al mondo cattolico che è disorientato, quindi un'intesa in difesa della tradizione dei valori cristiani dell'Europa in vista delle elezioni di giugno. Questo non è un soggetto politico, però diciamo un'unione che sembra anche un po' strategica, proprio perché sembra che ci sia questa voglia di partito cattolico. Qualcuno legge questa voglia di partito cattolico, varrà come in realtà non come voglia di partito cattolico, ma come voglia di partito di centro, che era la democrazia cristiana, cioè un partito di grande partito di centro, non un centrino, non un centrone, che quindi non sia né di qua né di là, che possa dialogare con la destra o con la sinistra, ma che non sia la destra come sono loro, ma che sia proprio un centro equidistante. Allora voi che vi ritenete centro equidistante, al momento non siete un centrone, ma permettimelo un centrino, come ti poni rispetto a questo sondaggio di democrazio? Ma devo dire che non mi stupisce per niente. Voi vi siete sentite ritenuti laici? Abbiamo un'area popolare importante, noi siamo trasversali, nel senso che abbiamo un'area popolare importante come Maria Stella Gelmini e Elena Bonetti che è entrata adesso, quindi in realtà mi è piaciuto molto l'equilibrismo del vocabolario perché non è stato mai accennato all'accoglienza, quindi abbiamo parlato di famiglia, valore cristiano, abbiamo parlato di utero in affitto, di accoglienza. Chiamiamo la gestazione peraltro in maternità surrogata, perché vi prego il dottor Neppito è veramente brutto, da donna, però dell'accoglienza non abbiamo parlato, ma oggettivamente quest'area popolare si sente disorientata e oggettivamente non trova sponde nella vostra parte, ma non trova sponde perché non la riempite a pieno, il fatto di agitare i rosari, immaginette, piuttosto che dire... Quello è Salvini che agita i rosari. Dire ad esempio difendiamo Dio, noi difendiamo Dio che è quasi una bestemmia, difendiamo Dio, questo, evidentemente non raccoglie l'esigenza di un, come dicevi te, di un'area moderata che raccolga tutti i valori, trasversalmente inclusi anche l'accoglienza, all'interno della vostra area. Oggettivamente c'è un bisogno che cerchiamo con tantissime difficoltà al centro di creare. Però il problema è se questo 37% vuole i valori cattolico-cristiani o vuole la moderazione, perché sono due concetti diversi. Ma secondo me si sposano invece tantissimo, perché questo equilibrismo... Adesso poi sentiamo anche Abdu. Questo equilibrismo, più che questo equilibrio, non equilibrismo, questo equilibrio dell'elettorato cattolico, oggettivamente si sposa anche a una politica moderata. Che poi però l'elettorato cattolico sceglieva o di qua o di là, perché io mi ricordo che anche la democrazia cristiana c'era la parte di sinistra e la parte di destra, le correnti, non erano tutti uguali. Però siamo agli estremi. Io continuo a pensare che dagli anni 90 in poi, nonostante ci siano stati tentativi particolari, interessanti, di terzi poli, il Movimento 5 Stelle rappresentato... Che diceva noi siamo la terza via, la Lega anche in un certo momento voleva essere la terza via. Però diciamo che l'elettorato si è posizionato... Anche la Margherita. Sì, ma su uno dei due poli, no? Allora io credo invece, parlo da Ateo, scusate, con tutto il rispetto, che però lavora col mondo cattolico, con le scuole, con la curia milanese nel mio ruolo da Presidente di Municipio 1, io credo che la gente senta bisogno dei valori cristiani, di tutta una serie, cioè a 360 gradi che parlano di accoglienza, di fratellanza, che sono ben rappresentati da questo pontefice, per certi versi persino da quello di prima, che magari per alcuni era comunque più sforzato, più algido, più un teologo, quindi questo Papa comunicativamente è un'altra cosa, però io credo che questa idea non sia un'idea che debba essere in capo alla destra o alla sinistra e quando la destra e la sinistra hanno cercato opportunisticamente di accaperrarselo, ha fatto una brutta figura. Io credo che in uno Stato laico, nelle differenze che ci devono essere sancite dal concordato in poi, questi valori sono valori di fratellanza, che sono i valori delle religioni buone quando non vengono trasformate dagli uomini, meno dalle donne, sia in senso ampio, sovresteso, ma anche di genere, devo dire che le guerre di solito le fanno più gli uomini. Allora, in questo senso, io credo che il sondaggio verrà presenti, mentre, scusate, io trovo tutte strumentalizzazioni, la lega che fa l'accordo con l'Udc. No, ma al di là degli accordi dell'Udc che non si sa neanche di che Udc si parla, di quale pezzo di Udc in questo momento storico e di quale lega ha visto risultati recenti, dove Forza Italia infatti recupera come centro moderato, se volete, laico o cattolico che sia, perché poi c'è dentro di tutto, anche Forza Italia sta recuperando, guarda caso. Ma posso dire che anche Fratelli d'Italia, che è diventata più moderata da quando sta al governo, sta recuperando? Ma certo, in un gioco di vari comunicanti, allora però questo dimostra che alla gente, al di là degli aficionados dei vari partiti, che devono tenere le posizioni, qualche volta è successo anche nel PD in passato, io credo che alla gente interessi che la politica si occupi di tutta una serie di valori, che sono valori cristiani, anche, ma non partendo da quello strumentalizzandolo, perché di quella roba lì ne abbiamo pieni le tasse. Scusami, Mischaretti, qui c'è un altro dato che in parte cozza forse, perché il 27,4% ha detto degli intervistati, ha detto che nessuno dei partiti attuali rappresenta la sensibilità cattolica, per cui quello che dici tu, che in realtà sono tutti i valori quelli cattolici dell'accoglienza, che sono sparsi in tutti i partiti, allora vuol dire che quasi il 30% dice che nessuno dei partiti... Dopodiché mi piacerebbe sapere in che modo si rappresenta la sensibilità cattolica. Si rappresenta facendo le crociate a determinati temi, boh, non l'hai detto. Perché c'è il cattolico di destra e c'è il cattolico di sinistra. Secondo il Papa no, per esempio. Però Mattia c'è il cattolico di destra e c'è il cattolico di sinistra, secondo me è detto proprio in termini semplici e così, è perché c'è il cattolico che è più vicino ai temi che diceva Mischaretti e c'è quello che è più vicino ai temi come quello dell'accoglienza, sono due lati. C'è lui che essendo diventato piccolare tutto il sistema, scegli dove stare, perché non è che cattolico... Aspetta, aspetta, fermi, fermi, della vita? La vita, la maternità, la famiglia, credo che siano... Ma quello tutti cattolici... Cioè vuol dire, non è che è solo no, cioè noi... No, però è vero che sul tema dell'accoglienza ci si sposta. Ma sul tema dell'accoglienza parliamo, perché ci si sposta, poi bisogna vedere, perché siamo sempre lì, bisogna sempre vedere quello che si dice e quello che si fa, o quello che ti fanno dire o quello che dicono i giornali o i giornalisti altri che interpretano le tue posizioni. Sulla accoglienza noi abbiamo sempre detto che la nostra guerra è, perché così chiariamo anche questa cosa, è una guerra agli scafisti e agli sfruttatori, perché c'è stata un'accoglienza pelosa, bruttissima, che in tutti questi anni... Sì, però Salvini fermava l'ONG e lasciava le persone sulle navi, questo è un dato oggettivo. Ce l'aveva anche con gli scafisti, però di fatto erano le persone sulle navi. Noi siamo partiti da un 37% che dice delle cose, mi state chiedendo i valori, io vi sto parlando per Fratelli d'Italia e sto spiegando quello che portiamo avanti e quello che stiamo dicendo. Sulla accoglienza noi non abbiamo mai detto che non siamo per l'accoglienza, siamo per l'accoglienza seria, prima di tutto che tuteli chi c'è già, italiani, inteso come italiani che sono nati qua, immigrati, quelli che sono già qua, ma soprattutto che non sia un'accoglienza che ha alla base di questa accoglienza lo sfruttamento e la pericolosità per tutti quelli che... Sì, voi siete contro l'accoglienza indiscriminata, è giusto? Poi parlano di famiglia, sono così tanto per la famiglia come diceva Mastella che ne hanno 4 o 5 a testa. Vabbè, le separazioni e i divorzi ci sono in tutti gli schieramenti. Appunto, allora non ci faccio l'assero. Mi stupisco allora perché non votate lo Yousculture, visto che parliamo di gente nata in Italia, che studia in Italia, però questo qua non è accoglienza. Quella sarebbe accoglienza. Ah, la grazia è proprio un valore perfetto dell'accoglienza. No, ma infatti... Diciamo, sicuramente è questo... Ci sono sensibilità, mascarecchi, diverse. Noi crediamo che si debba essere segni nei confronti di tutti e la situazione che abbiamo ereditato e che ci troviamo è una situazione non molto gestibile. Voi andate, siamo a Milano, andate nelle periferie milanesi a vedere se l'accoglienza che è stata fatta in tutti questi anni è un'accoglienza che ha dato dei frutti, cioè c'è stata un'integrazione, sono tutti felici, nelle scuole va tutto bene, le famiglie sono integrate, sono tutte soddisfatte, c'è un welfare che va bene e che soddisfa tutti. Io non credo che sia così, ma se voi siete convinti... Ma non abbiamo mai detto e non siamo convinti, però non è un problema che è colpa di un sindaco di tre anni, cioè è un problema strutturale di tutte le grandi città d'Italia e mi permetto di dire anche d'Europa. E comunque Salvini in questi anni ha fatto il ministro dell'interno, non è che ha risolto tutti i problemi del creato, anzi... Per noi parlo degli atti, io parlo di chi è stato il governo... Sì, appunto, gli atti quali sono? Quello che abbiamo ricevuto... Di che atti parliamo? Gli atti sono quello che l'accoglienza c'è e chi viene in Italia e viene in regola... Vabbè, comunque, è chiaro che ci sono due politiche diverse, una nel centro-destra e una nel centro-sinistra per quanto riguarda il tema dell'accoglienza. Il problema è anche la credibilità, però... Non stiamo... cioè, non dite la stessa cosa... No, però quando dici io sono cattolico, io difendo la famiglia e poi sei in un partito dove è pieno di gente che legittimamente, per fortuna, può divorziare, eccetera... Allora, non c'è bisogno di fare le morali, perché poi o sei il Papa... No, beh, ce li hanno i cattolici, hanno un sacco di esponenti nel PD. Guarda, ne abbiamo un sacco di cattolici, ottimi cattolici, ottimi cristiani... Da Pizzula, Cova, Granelli... A Patrizia Toglia, che è uno dei nostri... Dai, vi prego... No, c'è stata un'emorragia incredibile, altri stanno andando, perché quando c'è stata la nuova linea del vostro... Beh, è vero che qualche esponente cattolico con la scena ha un po' imbarazzo. Come quando ci sono stati tutti i problemi degli scandali di Berlusconi, Forza Italia e cattolici sono scappati, signori. Tutta comunione e liberazione ha lasciato quasi in blocco Forza Italia quando ci sono stati i problemi delle olgettine. Qualcuno si ricorda? Ah no, perché? Se vogliamo andare a vedere i guai degli altri... No, ma sai, ma è lì la differenza, è un guaio. Noi abbiamo una segretaria che esprime delle posizioni, se uno non è d'accordo cambia partito, si allontana, sta dentro da dissidente, cosa vi devo dire. Comunque, visto che parliamo di ritorno del partito cattolico, l'arcivescovo di Milano, Monsignor Delpini, ha scritto una nota in cui dice che ha accolto con favore l'idea del Consiglio pastorale diocesano di elaborare un testo, appello, rivolto a tutte le comunità cristiane, che viene riportato che ho qui, che parla proprio delle elezioni europee e dice che il cristiano cattolico si deve impegnare in politica, quindi è un invito a votare per le elezioni europee e parla dell'Europa dicendo che l'Europa è un sogno, l'Europa comunitaria nasce da un sogno, che è un sogno di pace, giustizia, solidarietà, con al centro il valore assoluto della persona e della sua degnità. Queste sono le parole appunto dell'arcivescovo. Ma in realtà nel Consiglio pastorale diocesano di questo caso che lui ha sposato. Colgo l'occasione per ricordare che la diocese di Milano storicamente, anche quando qualcuno di immigrazione non gradiva parlare, ha riutilizzato alcune chiese che erano sostanzialmente abbandonate per ospitare i culti cristiani, ma da varie etnie, gli ortodossi, i maroniti, tutti i culti collegati alle etnie che ci sono a Milano. Quindi la curia di Milano è un esempio proprio di quel messaggio cattolico, non è di sinistra né di destra. Esatto, vi voglio leggere cosa dice il Consiglio pastorale diocesano, l'Europa è un processo aperto che chiama in causa il nostro protagonismo, cioè di noi cattolici, cristiani, anche il nostro contributo critico, questo dice, di fronte alle grandi sfide. E queste grandi sfide cosa sono? Distione demografica. Disuguaglianze da sanare, diritti da garantire, fenomeni migratori da affrontare insieme, ambiente da tutelare, rivoluzione digitale da governare, politica estera di cooperazione e di pace sulla base del diritto internazionale. Queste sono le sfide che Delpini sottolinea come debbano vedere il nostro impegno in politica. In questo senso l'esercizio del voto è un'esplicita espressione del nostro impegno e della nostra cura per la Casa Comune Europea. Per questo l'8 e il 9 giugno ci sentiamo chiamati e invitiamo a partecipare alle elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo, perché siamo tutti chiamati a ridestare il sogno europeo. Quindi c'è un impegno preciso da parte anche della diocesina. Ricordiamoci che noi abbiamo il 60% di astensionismo, quei 37% piuttosto che 20% no. Nessuno mi dice che sia gente che non va a votare perché non si sente rappresentato. I 27,4% che dicono che non c'è nessun partito che li rappresenta, penso che stiamo a casa al momento. Dicono che non c'è un rappresentato che rappresentano le cose cattoliche, non è detto che non vadano a votare. No, però c'è sottolinea come non si sentano rappresentati. Ha ragione, non sappiamo se quel 37% sta ad esempio nei votanti, nei non votanti. Sì, certo. No, sappiamo solo che la maggior parte sono elettori vostri, il vostro o di Forza Italia. Questo è un dato. Ma infatti le battaglie sulla laicità dello Stato storicamente in questo paese non mi pare che... Le ha fatte la sinistra, le ha fatte soprattutto la sinistra. Comunque se leggiamo l'ultima riga c'è anche una cosa di cui forse ci siamo accorti relativamente. Cioè? Quando il Consiglio Pastorale scrive che siamo tutti chiamati a ridestare il sogno europeo... Sì, come per dire che a risvegliarlo... Mi sembra che stia dicendo che il sogno europeo non lo stiamo minimamente coltivando. Esatto, parla di unità, parla di Europa unita, parla di investimento dell'Europa. Ma poi se andassi oltre strumentalizzerei questo messaggio... E non lo fare perché siamo a Telenova. Diciamo che forse tutti abbiamo questo sogno europeo che in Italia era molto forte, che è stato un po' dell'uso dell'Europa, che nei momenti di difficoltà ha dimostrato che non c'era dell'oponita. Parliamo dei vaccini quando c'era il problema del Covid. Però qui c'è un richiamo a riprenderlo quel sogno. Sto dicendo, parliamo... Anche se sei disilluso. Stiamo dicendo che sicuramente l'Europa che abbiamo avuto fino adesso è stata un'Europa un po' matrigna. Cioè quindi noi sognavamo una grande Europa in un certo modo... Sta a noi cambiarla, cercare di cambiarla. Esatto, noi siamo di questa idea. Cioè noi crediamo nell'Europa e crediamo in un'Europa molto più... Con Orban. Non lo so, loro magari. Molto più simile all'Italia in cui i nostri valori pesino di più. Mi sembra che Draghi in Europa abbia ben fatto il ruolo del vero europeo. Mi sembra che altri non lo stiano facendo e si siano dimenticati cos'è il ruolo dell'Europa. Io stavo ricordando... Ma ricordiamoci... Vabbè, comunque... Stavo ricordando, voi dovreste essere d'accordo quando c'è stato il tema dell'energia, quando la Germania è vestito miliardi e miliardi per l'energia, per le imprese, pensando alle sue imprese e come dire, creando un disallineamento con le imprese italiane e con altre... Che è quello che fa il 90% del tempo blocco di Visegrad, opponendosi a tutte le politiche di coesione europea. Perché poi c'è il voto all'unità che... Se l'ha fatto la Germania una volta, sbagliato. Alcuni paesi sono comprati i vaccini per i loro cittadini, hanno opzionato e hanno lasciato indietro gli altri. Mi segnalano dalla regia che dobbiamo chiudere. Dobbiamo chiudere. Dobbiamo chiudere, quindi ringraziamo Mattia Abdu, ringraziamo Davide Verrà e Andrea Mascaretti, ringraziamo anche te. Grazie. La prossima settimana sei da solo, senza di me. Allora non ti ringrazio, va bene. Tu mi ringrazia, va bene. Invece con me ci vediamo tra due venerdì, con lui il prossimo. Buonanotte. Buonanotte. Ah, non l'abbiamo detto.